Bentornati, spero che sia stato un buon momento la session poster in corrispondenza del pranzo, spero che avete avuto modo di apprezzare i poster oltre al pranzo. Lascio ora la parola al prossimo speaker, sarà Anna Carmassi, che è project leader di Assolo Lombarda, ha un'esperienza come imprenditrice, più di 30 anni di esperienza come imprenditrice e oltre a questo nel board di Stemmiamoci, ci parlerà in particolare di varie iniziative che vengono svolte per la promozione all'interno di Stemmiamoci. Grazie mille, buongiorno a tutti. Sono Anna Carmassi, sono associata a Assolo Lombarda. Assolo Lombarda è la più grossa associazione territoriale di confindustria per numero di addetti, per numero di aziende, per fatturati, eccetera. Vorrei introdurre il mio intervento con questo video. Grazie. Ti avevano detto che sarebbe successo anche a te. Che anche tu avresti conosciuto un amore grande. Ti avevano detto che presto avresti avuto una persona in più di cui prenderti cura. Ti avevano detto che tante volte avresti scaldato quel forno per loro. Una cosa non immaginavano. Che il tuo forno lo avresti progettato tu. Che il tuo forno. Non ci sono faccende da donne. Grazie. Voglio partire da qui. Chi appartiene alla mia generazione si è fermato prima del finale. Cioè per noi era progettato un futuro da mamme sostanzialmente. E per le nostre mamme ancora di più. Possiamo anche ballare. A me piace quindi. Dicevo, ecco, la novità è proprio nel finale. La novità nel finale perché non è una scelta che è antitetica rispetto all'altra. Dobbiamo, si può, scegliere liberamente di fare entrambe. Io sono, ho il piacere di coordinare il tavolo che si chiama Stimiamoci in Asso Lombarda. Luogo predominante, la figura maschile come potete intuire, fra gli imprenditori. E proprio in quella casa, in casa degli imprenditori, cerchiamo di proporre, di scoprire i modelli che possono meglio adeguarsi ai posti di lavoro proprio per sostenere le donne nelle loro carriere. Ma stimiamoci, perché stimiamoci? Allora, siamo partiti dall'acronimo STEM, che non credo di dover spiegare in questa sede. Abbiamo aggiunto e mantenuto la A, perché è partito da un progetto di Asso Lombarda che era Milano-Città-Steam, STEAM come vapore ovviamente. Immaginando che Milano potesse in qualche modo trainare il resto del paese verso un futuro un po' più positivo rispetto alla crisi che abbiamo vissuto e che ancora oggi possiamo toccare. Abbiamo lasciato STEAM perché anche la A, che su un territorio come Milano, l'acronimo inizialmente sta per Arts, ma su un territorio come Milano la A la possiamo declinare con architettura, con arredamento, che vuol dire design, comunque Milano ha la sua da dire in questo proposito, per agroalimentare. Quindi la A l'abbiamo mantenuta, anche perché le nostre materie STEM sono pervasive di qualunque attività che io voglia coltivare un campo, che io voglia fare la modista, ormai diciamo devo avere a che fare con le tecnologie. E quindi l'abbiamo lasciato STEAM per questo vapore trainante, e stimiamoci per l'assonanza, perché vogliamo che sia un'esortazione alle ragazze. Noi, essendo un progetto, siamo partiti con delle misurazioni. Abbiamo fatto una fotografia, questo progetto è nato due anni fa. Abbiamo fatto una fotografia, due indagini distinte, non vi racconterò mezzo dato, se volete sul sito Assolombarda stimiamoci, è una parte aperta, potete entrare e vedere da voi. Comunque abbiamo avuto la conferma di qualcosa che sentivamo già essere un problema. Quindi abbiamo visto dei numeri molto tristi, che riguardavano la partecipazione delle ragazze alle facoltà cosiddette appunto tecnologiche o scientifiche, scarsissima partecipazione, anche se questa partecipazione è sempre stata molto efficace, i voti maggiori, laureate in meno tempo, minore abbandono scolastico, quindi un sacco di pregi. Allora, se la nostra Italia è formata per più della metà da donne, da ragazze, senza essere una statistica, posso essere sicura che stiamo perdendo dei talenti. Stiamo proprio perdendo dei talenti che in questa sala ci sono di sicuro. Ci sono dei talenti qui. E noi che cosa vogliamo fare nella pratica? Intorno al nostro tavolo ci sono aziende, ovviamente, che sono pronte e disposte, sono state disposte a condividere le loro cosiddette buone prassi. Ci sono le istituzioni, c'è l'università in cui ci troviamo. Cristina Messa è seduta al nostro tavolo e con Bicocca, per dare un esempio concreto, abbiamo un rapporto che ci ha consentito di erogare per la seconda volta, seconda edizione, la prima l'abbiamo già fatta l'anno scorso, abbiamo erogato 10 borse di studio alle 10 più brave ragazze iscritte a informatica perché abbiamo visto che lì i numeri sono ancora bassi di partecipazione delle donne. Siamo partiti da lì. Siamo partiti da quell'esperienza e quindi abbiamo premiato le 10 più brave con una borsa di studio e la più brava delle più brave, matricola è primo anno, sto parlando, la più brava delle più brave è un premio supplementare, stiamo parlando di migliaia di euro, un premio supplementare intitolato a Maria Gaetan Agnesi, non so di chi di voi la conosce, comunque è una donna che è vissuta 200 anni fa, abitava in Via Pantano, Via Pantano è l'indirizzo di Assolombarda, al portone di fianco, è stata la prima donna a scrivere un libro di analisi matematica, parlava sette lingue, ha fondato il Piolbergo Trivulzio, perché voleva aiutare, 1700, siamo parlando di 200 anni fa, 300 ormai perché siamo nel 2000, 250, voleva aiutare le donne sole, con figli, abbandonate, questa donna illuminata e quindi abbiamo pensato di istituire questo premio che continueremo a erogare anche il prossimo anno, alla prossima edizione, vedremo chi premieremo. Comunque ci stiamo muovendo nel concreto in questo. Dicevo, intorno al nostro tavolo ci sono sedute le università milanesi, le istituzioni, ha aderito al nostro progetto la Polizia di Stato, l'Ufficio di Rappresentanza del Parlamento Europeo, per citare soltanto qualcuno, il Museo della Scienze e della Tecnologia, perché Assolombarda rappresenta le imprese del territorio, circa 6.000, rappresenta le imprese del territorio e quindi ha il suo agio a muoversi sul territorio e sta lavorando per essere catalizzatore di questi progetti che ci sono disseminati qui e là, proprio perché in un momento come questo, dove le risorse economiche scarseggiano in qualunque ambito e anche le risorse delle persone temporali come me, che facciamo volontariato a buon fine, siccome scarseggiano questi due elementi, cerchiamo di ottimizzare e mettere a sistema le iniziative e quindi noi, vedrete, chi andrà a visitare il nostro sito, vedrete che noi riportiamo iniziative fatte anche da altri, ma raccontiamo, cerchiamo di condividere, invece di fare il mio convegno su questo tema, il suo convegno su questo tema, cerchiamo di organizzarci e ottimizzare. Comunque dicevo, intorno al nostro tavolo ci sono vari soggetti che concorrono a proporre, a indicare soluzioni o a proporre iniziative che noi valutiamo, cerchiamo di costruire, di portare a terra, come si dice. Cerchiamo, dunque, le nostre indagini, dicevo, ci hanno confermato, intanto che gli stereotipi nascono molto, molto, molto presto. Parliamo delle scuole elementari, per darvi un'idea, molto presto. Gli stereotipi riguardano anche i ragazzi, tanto per capirci, i maschi, mi è capitato in un'occasione, in particolare, un ragazzo che, in un contesto come questo, ragazzi delle superiori però erano, ha osato dire che lui da grande avrebbe voluto fare il comico, sconcerto dei professori, dei genitori che erano presenti, ecco, perché i ragazzi, poveri loro, devono per forza realizzarsi in una professione stellare. questo prevede il manuale. Quindi anche voi, maschi, vedo comunque numerosi oggi, avete nel vostro piccolo qualcosa da gestire, in questo senso. Le ragazze ne hanno molti di più da contrastare e i ragazzi, i loro compagni, hanno consapevolezza di questa cosa qua. Le nostre indagini ci confermano che voi ragazzi, voi maschi, siete molto più attenti di chi appartiene alla mia generazione. e questo è soltanto, diciamo, un auspicio, diciamo, ci lascia ben sperare. E quindi dicevo, che cosa facciamo? Parlavo delle borse di studio, ma noi per esempio organizziamo, sia in Assolombarda che all'esterno, presso le scuole, organizziamo delle giornate chiamate orienta giovani. In quelle giornate che si rivolgono ovviamente alle scuole superiori, convochiamo imprenditori, solitamente giovani imprenditori, imprenditori o professionisti che svolgono e professioniste soprattutto che svolgono attività poco consuete, giusto per allargare gli orizzonti. Partecipiamo, sempre come stimiamoci, al Salone dello Studente che è in giro per tutta l'Italia, sono circa una ventina di eventi, uno per regione ogni anno, e in quella circostanza noi mandiamo a testimoniare il loro percorso giovani imprenditrici, sempre donne che vanno a raccontare alle ragazze che cosa fanno, in che cosa consiste il loro lavoro, perché hanno fatto una scelta imprenditoriale e così via. Quindi questa è un'altra delle cose che facciamo. Mentre noi abbiamo continuato a indagare, scopriamo ovviamente come dicevo prima che gli stereotipi nascono presto e in particolare nei libri di testo. Nei libri di testo dove io credo voi siete molto tecnologici quindi avrete visto girare anche voi il sussidiare dove la mamma cucina e stira e il papà invece lavora. Come se cucinare e stirare non fosse un lavoro. E a questo proposito, sempre per gli stereotipi, credo opportuno soffermarci anche sulla domanda che noi ci facciamo. magari a voi studenti non è ancora capitato ma alle signore che vedo qua presenti. Tu lavori? Che significa tu lavori? Tu lavori? Lascia sottintendere che se sei a casa, in casa non lavoro quello. Ecco, forse la domanda da farci è dove lavori? Che lavoro fai? Non tu lavori. Anche le parole hanno un peso però funziona ancora così. Tu lavori, ci chiediamo. Donne che non fanno niente non ne conosco personalmente quindi diciamo che mi sento di perorare questa causa. Torniamo al nostro progetto Stimiamoci. Quindi Stimiamoci ha organizzato un tavolo di lavoro, un gruppo che si occupa dei testi scolastici e qui attraverso anche il supporto di università stiamo per avviare una ricerca e la tecnologia, algoritmi, machine learning sono dalla nostra quindi ci sarà questo setacciare i libri di testo per individuare proprio quante volte e in che modo vengono rappresentate le donne, gli uomini per segnalare nella casa delle imprese alle imprese che stampano alle case editrici a chi produce giocattoli dare delle indicazioni. La nostra aspirazione è fornire delle linee guida proprio per diciamo però basate su dati scientifici oggettivi. Questa è un'altra delle attività che noi svolgiamo. Sul nostro sito troverete anche profili di donne che noi chiamiamo le protagoniste del futuro perché sempre dagli indagini che abbiamo fatto un elemento che è emerso in modo importante è la mancanza di modelli di donne. A volte questo lo raccontano le ragazze noi abbiamo intervistato maschi e femmine del triennio dell'ultimo triennio delle superiori abbiamo intervistato i genitori abbiamo intervistato i professori e le professoresse e diciamo che queste indagini ci confermano proprio che la partecipazione la presenza diciamo la motivazione allo studio viene anche scoraggiata dai modelli di mamme che le ragazze vedono arrampicarsi sui vetri per poter gestire il proprio tempo professionale e la famiglia perché il circo che abbiamo intorno a volte io dico ridendo ma non troppo che a volte acquisiamo anche i nostri suoceri da gestire ecco a volte succede anche quello comunque le nuove generazioni sono sicuramente diverse e noi di questa generazione siamo qua a sostenerle io sono mamma di una ragazza di un ragazzo mia figlia maggiore ha 36 anni il mese prossimo ha tre bambini lavora a tempo pieno lei ha fatto il politecnico quindi non non ha una carriera qui dentro ha tre bambini il primo maschio e le altre due sono due bimbe e mio compito e mi consente il mio lavoro di imprenditrice è proprio sostenerla in qualunque momento per la sua carriera professionale perché deve essere così quando ho iniziato a lavorare prima di fare impresa mi è stato chiesto se avevo mica intenzione di far figli mi è stato chiesto questo e allora pensavo che mia figlia non avrebbe vista sta roba mentre invece mia figlia ha fatto tempo a vederla mia figlia ha fatto tempo a vederla e mi sono giurata che le mie nipotine no la mia molla in questo momento è proprio che le mie nipotine non devono arrivare in un mondo che selezionerà le donne sulla base del fatto che vorranno riprodursi o meno a questo proposito dicevo c'è l'ufficio del Parlamento Europeo sotto il nostro tavolo perché noi stiamo monitorando e stiamo studiando tutte quelle che sono le proposte di legge che vengono inoltrate a Bruxelles proprio sul tema che può agevolare per esempio l'assenza per maternità allora grande conquista dell'Unione Europea recente credo magari l'avrete anche sentito sono stati definiti in dieci giorni il congedo parentale per il papà dieci giorni il papà deve stare a casa dieci giorni quando diventa papà allora intanto credo che da 5 a 10 se i cinque giorni sono di rimenti me li prendo di ferie ho risolto i problemi della mia vita credo mentre invece bisogna lavorare in un'altra direzione parlo col cappello delle imprese le imprese spesso quasi 2000 in Sonobarda hanno meno di 10 addetti alcune ne hanno 5 alcune ne hanno 3 e se in un'azienda di 5 addetti una mamma sta a casa mi manca il 20% di chi lavora quindi questo è un tema sul tavolo l'altro tema sul tavolo è che in un mondo come quello che abbiamo oggi davanti agli occhi se io mi assento per un anno dal mio posto di lavoro opzione 1 non ritrovo il mio posto di lavoro e quella ancora ancora opzione 2 magari ritrovo il mio posto di lavoro ma non riconosco più neanche la mia azienda perché nell'arco di un anno è successo l'impossibile e quindi stiamo lavorando bisogna cambiare ovviamente questi numeri bisogna studiare qualcosa che consenta un alternarsi del papà e della mamma in modo che nessuno si senta penalizzato l'azienda non ha un trauma diciamo si può continuare a lavorare un'altra cosa ecco le aziende per esempio che lavorano in Sonobarda dicono beh noi abbiamo qualcuno ha introdotto lo smart working qualcuno appunto consente ai propri dipendenti di lavorare da casa e qui invece parlo come traduttrice mi autodichiaro mi autodenuncio sono una traduttrice io però ho fatto liceo scientifico se questo magari compensa da traduttrice però posso dire che lavorare da casa solo da casa via computer per me la tecnologia è stata preziosissima da subito noi avevamo abbiamo avuto il modem appena è stato introdotto sul mercato per poter dialogare con tutto il mondo e mandare in giro testi eccetera e quindi dicevo nel momento in cui sto a casa comunque mi manca l'interazione con gli altri quindi lo stare a casa è un lavorare sano se non è stare a casa per sempre o per un tempo prolungato perché questo ti isola dagli altri e mentre sei a casa in realtà tu non stai lavorando e quindi mentre sei a casa intanto fai partire la lavatrice magari metti sul brodo ecco e intanto lavori quindi può essere un aiuto sicuramente un aiuto importante bisogna gestirlo come tutte le cose con attenzione il nostro progetto dicevo cerca di mettere intorno al tavolo le aziende e le realtà che si muovono nella nostra direzione noi vogliamo cambiare questi numeri noi adesso stiamo avviando un altro ciclo di indagini perché la nostra risale a due anni fa e vogliamo vedere se i numeri sono cambiati diciamo che dalla stampa e dalle alcune ricerche internazionali questo aspetto positivo ce l'abbiamo già ce l'hanno già indicato quindi stiamo migliorando la percezione è quella personalmente è la prima volta nella mia vita che sento che vedo questa vivacità propositiva che mi sembra di poter dire forse la fine del tunnel c'è comunque vi invito ad andare a vedere sul nostro sito ma volevo segnalarvi per esempio anche che noi abbiamo organizzato un cineforum che si intitola dove osano le donne a Solombarda si apre al territorio gratuitamente non lo fa mai solo gratuitamente non si apre di solito allora c'è l'auditorium che sono 450 posti 480 posti l'auditorium che è un luogo molto accogliente offriamo genere di conforto come uno snack da bere e proiettiamo dei film a tema che vengono sempre accompagnati da una donna preceduti da una donna che si racconta vedo saluta qua Fabiola Tisbini di IBM IBM per esempio la nostra proiezione il diritto di contare non so se l'avete visto comunque in questo film viene presentato il primo computer che in realtà era grande come questa stanza ecco e noi abbiamo avuto la possibilità attraverso IBM che partecipa al nostro tavolo di avere in carne e ossa la donna la giovane donna mamma single come ha tenuto a precisare che è a capo dei sistemi informatici di FCA sia in Italia che in America e quindi ha raccontato la sua storia non aveva le antenne non aveva tre occhi era una persona normalissima che ha condiviso con le persone presenti la sua esperienza la prossima proiezione cui vi invito è il 6 giugno il 6 giugno proietteremo ragazze vincenti è alle 18 e 30 alle 8 e mezza siete fuori per darvi un'idea è molto comodo c'è la linea gialla che arriva diciamo a due metri ragazze vincenti posso anticiparvi che ci sarà qualcuno dell'Inter in quell'occasione perché abbiamo scelto una azienda associata a Solombarda che facesse parte dello sport dicevo se andate sul nostro sito ho trovato un sacco di informazioni volevo chiudere soltanto perché curo il tempo e non voglio sforare per rispetto degli altri volevo chiudere intanto con due numeri e poi vi lascerò con un video allora la nostra costituzione dal 1946 sancisce che donne e uomini se svolgono lo stesso lavoro devono essere retribuite allo stesso modo 1946 non ci siamo ancora lo dice la nostra costituzione però un'altra data che mi interessa rammentarvi è 1965 per la prima volta le donne possono partecipare a un concorso per magistratura 1965 perché si temeva che il ciclo mestruale potesse condizionare una sentenza equilibrata ridete ma nel 75 invece c'è l'introduzione del nuovo diritto di famiglia fino ad allora vigeva quello del 1942 l'uomo assoggettava la moglie punto la mia maestra le mie professoresse delle medie hanno lavorato col cognome del marito perché loro non esistevano 1975 l'altro ieri 1981 abolizione del delitto d'onore 1981 per me è cinque minuti fa quindi non è che è così lontano nella storia e ultima ultima data 1996 è stato l'anno in cui la violenza sessuale è stata riconosciuta come reato contro la persona prima era reato contro la morale prima era un reato contro la morale cioè disturbavi la morale della società vi do questi dati ragazzi perché io ce li ho bene in mente ma dovete tenerli in mente anche voi e quello che spero è che ognuno di voi si faccia veicolo a sua volta per garantire che quello che è stato conquistato continui ad essere tale non è per sempre purtroppo niente è per sempre dovete continuare a darvi da fare perché questi diritti non vengano annullati noi parlo per la mia generazione siamo al vostro fianco vi saluto con un video auguri a tutti scegliete liberamente grazie 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 I step outside and I take a dip up and I get real high And I scream for the top of my lungs What's going on? And I say, hey, 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 hey I say, hey, what's going on? And I say, hey Scusate Mi dicono che dovevo chiedervi se avete domande da farmi Scusate Prego Volevo solo permettermi di aggiungere una data Nel 2020 è stato raggiunto il revenge porn Così era un reato solamente da quest'anno Quindi la promulgazione di un video amatoriale pornografico per vendetta È considerato un reato solo dal 2020 Grazie Sì, grazie per questa presentazione Volevo giusto dire che appunto la questione delle donne in magistratura è una questione che quando io sono venuta ad apprenderlo sono rimasta veramente sconcertata Ho partecipato in corte di castrazione al cinquantenario delle donne in magistratura E lì è stato letto il famoso testo del 33 in vigore fino alle soglie del 65 in cui si diceva Quasi credo di ricordarlo testualmente che le donne non erano in grado di esprimere Di giudicare perché sono troppo umorali Quindi poi era collegato chiaramente al ciclo mensuale A diciamo gli sbalzi umorali Ma in realtà proprio la dicitura era quella E effettivamente c'era da rimanere sconcertati Allora grazie Sì sì, intanto dico due parole di presentazione Allora prima di iniziare la discussione e il dibattito con la tavola rotonda Abbiamo invitato insomma a fare una presentazione Laura Terzera, professoressa del Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi Patrizia Farina, professoressa del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale E poi ci saranno anche Anna Villa e Nicoletta Fusi Che si faranno portavoce del personale tecnico di scienze Che è parte attiva, integrante e fondamentale per la ricerca nell'area delle scienze Aspettiamo che carichino le presentazioni Allora grazie Grazie di averci invitate a questa interessantissima due giorni Io sono Patrizia Farina del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale Con me qui c'è la professoressa Terzera Che è del Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi Entrambe lavoriamo per il centro di ABCD Interdipartimentale per gli studi di genere Dove stiamo provando a progettare una specie di osservatorio Che dovrebbe essere, riguardare tutto l'Ateneo Un osservatorio che guardi da un lato alle carriere, alle performance Alle carriere del personale docente e anche tecnico-amministrativo E all'ingresso delle nuove generazioni di studenti e studentesse Nelle diverse facoltà e nei diversi corsi di laurea Io sono tra le, diciamo, partecipanti al primo bilancio di genere La redazione del primo bilancio di genere del nostro Ateneo Mi sono occupata proprio delle questioni relative alla carriera del personale docente E quindi oggi vi porto per i pochi minuti che abbiamo a disposizione Ma mi sembra molto interessante Qualche informazione tratta proprio dal bilancio di genere Dalla relazione del bilancio di genere che potete trovare sul sito E scaricarlo per chi fosse di Bicocca, fosse interessato a leggerlo Abbiamo fatto, io e Laura Tersera, uno zoom Su alcune delle caratteristiche relative ai dipartimenti Che afferiscono alla più grande area di scienze Allora, la prima slide che vi presento Di queste tre o quattro che vi presento È la distribuzione per genere del personale docente Al 31-12 del 2017 in termini percentuali E quello che possiamo vedere, uno sguardo di insieme Che include tutti i dipartimenti Dove la classificazione appunto è per dipartimento Ma potremmo averlo a qualsiasi altra grana fine Noi abbiamo usato questo La componente femminile nel nostro ateneo prevale solo in pochi dipartimenti E mentre, per contro, che è quello che ci interessa Le simetrie più ampie nella distribuzione di genere Riguardano proprio i dipartimenti di scienze Dove la presenza femminile è sistematicamente più bassa Anche dove la presenza femminile è più alta Comunque non è così alta come è alta la presenza maschile Nei dipartimenti invece di scienze Un secondo elemento, sempre superficiale però Che dà un po' l'idea di da dove si può partire Per andare a fare ragionamenti ulteriori Riguarda l'età degli uomini e delle donne di questo ateneo Che a scienze vediamo che la media e anche la mediana Più o meno assumono lo stesso valore Gli uomini nei dipartimenti legati a scienze Sono più giovani degli uomini dell'ateneo escluso scienze Quindi di un, due o tre anni A segno di una carriera abbastanza significativa Questo è il primo elemento Un secondo elemento è ancora più eclatante Se vogliamo dire E sono i rapporti di femminilità Le donne per cento uomini E come vogliamo vedere Lo riassumo brevemente Quanto è la prima fascia Che è caratterizzata dalla linea gialla Sia molto retratta rispetto al punto di equilibrio Che dovrebbe essere cento o uno Se non moltiplichiamo per cento Tanto più le linee sono a sinistra Tanto meno c'è equità Nei rapporti tra uomini e donne Qualsiasi sia il rapporto Qualsiasi sia la numerosità All'interno di ciascuna delle fasce Quindi quello che vediamo è Che l'unico dipartimento Che diciamo Ha una performance sulle fasce Almeno fino all'associato Decisamente positivo Decisamente elevata È quello È il dipartimento di biotecnologie e bioscienze Tutti gli altri invece Avendo dei valori decisamente inferiori Faccio notare che comunque Nessun dipartimento Nessun dipartimento del nostro Ateneo La linea gialla supera La soglia del centro Questa è la stessa cosa L'ho portata in numeri Lo tengo a destra Poi ve le lascio queste diapositive Non sono proprio tanto confortanti Però insomma Si può guardare anche In positivo La possibilità di lavorarci su Il grafico a sinistra Ci fa vedere Come siano i rapporti Le donne per cento uomini Fasce di partimento Siano nella prima fascia 35 donne ogni cento uomini Mentre Nell'azzurro Che è la prima fascia Gli altri dipartimenti Esclusa scienza Comunque è basso È 54 ogni cento Ma è più alto Di tutti i dipartimenti di scienze Spiace dirlo Ma funziona un po' così Quello che voglio invece Farvi vedere qui È l'età Ne ho presa una sola L'età mediana L'età media Al passaggio Dalla seconda fascia Alla prima fascia Per genere di partimento Prendendo tutti quelli Che sono passati E la differenza È straordinaria La vedete Che ci sono differenze Eclatanti Nella lentezza Con cui si è passati Dalla seconda fascia Alla terza fascia Quando si è donne Invece che essere uomini Qui invece a destra Ed è l'ultima cosa Che vi voglio far vedere È un grafico Che rappresenta La percentuale di donne Che sono in prima fascia Per dipartimenti Quelli sono i dipartimenti E sulle ordinate Troviamo Il glass ceiling index Che è il rapporto Che viene utilizzato Anche dal MIUR Che viene suggerito Dal MIUR Di utilizzare Che in pratica È il rapporto Tra la percentuale di donne All'interno di un dipartimento Sulla percentuale di ordinarie All'interno dello stesso dipartimento Se fosse uguale a 1 O a 100 Ciò significherebbe Che c'è un equilibrio Tra quante sono le donne In un dipartimento E quante sono ordinarie Di quel dipartimento Tutte le volte Che si sale In tutti i casi In cui si sale Superiore all'1 Vuol dire Che c'è Un squilibrio Nella popolazione generale Rispetto alle ordinari E quello che vediamo E quello che vediamo È che vicino all'unità Qui sotto ci sono le percentuali Delle donne in prima fascia Vicino all'unità Ci sono scienze umane Sociologia Scusate Sociologia E giurisprudenza Il pallino arancio È la media dell'Ateneo Vedete che Quasi tutte I dipartimenti di scienze Si trovano in alto Quindi dove ci sono Rapporti molto alti E con una percentuale Di ordinarie Relativamente contenuta Allora io Mi dispiace di aver raccontato Questa brutta storia Ma questa è la storia Cosa possiamo dirci Che certamente Che le differenze Nell'area di scienze Sono molto marcate Sia in termini Di numerosità Sia in termini Di distribuzioni relative Tra uomini e donne Certo che Quello che si suggerisce È che molto lavoro È necessario dopo Cioè Comprendiamo Bisogna comprendere Le dinamiche Di reclutamento Contrastare Le discriminazioni Laddove ci sono E monitorare In modo sistematico L'evoluzione Della presenza Femminile e maschile In questo senso Noi di ABCD Abbiamo incontrato Diversi candidati Al rettore Rettore Che stiamo In procinto Di votare Chiedendo loro A tutti Di costituire Un osservatorio Che abbia Risorse E sistematicità Per monitorare Per monitorare Le carriere Del personale Docente E anche Tecnico Amministrativo Non solo Naturalmente Nei dipartimenti Di scienza Molto lavoro È necessario Anche prima E su questo È importante Riflettere Stimolare L'accesso Alle lauree scientifiche Fin dalle scuole Superiori Soprattutto Con iniziative Tipo PLS Il piano Delle lauree scientifiche Di cui Laura tercera È una Sicuramente Una delle Veteranee Che lavora Su questo tema E riflettere Sui possibili Strategie Di comunicazione Favorevoli Al reclutamento Femminile Anche Aumentare La numerosità Può avere La sua Forza Tanto più Si aumenta La numerosità Tanto più Le potenzialità A parità Di tutte le altre Condizioni Potrebbero aumentare Grazie Allora grazie Intanto Grazie Per il lavoro Che avete fatto Con la pubblicazione Del primo bilancio Di genere Che immagino Sia stato Insomma Lungo E faticoso E Come dire Aggiungo Faccio solo Un piccolo commento Uno dei motivi Per cui abbiamo cercato Di Mettere In comunicazione Industria Azienda Con il nostro Ateneo Oggi pomeriggio Proprio perché Dobbiamo Noi come Ateneo Anche imparare Dall'esempio Che ci dà L'industria In questo caso Da Solombarda E Ricordarci Che Abbiamo Che risulta In una perdita Di talenti E di risorse Che questa è una cosa Che è emersa Anche ieri Comunque Confrontandoci Anche con Le colleghe E durante La tavola rotonda Di ieri Chiamo Se magari Facciamo le domande Alla fine Se volete Allora intanto Ci presentiamo Io sono Nicoletta Fusi E sono geologa Siamo entrambi Tecnici Sono geologa Nel Dipartimento Di Scienze Dell'Ambiente Della Terra Che è molto Varigato Per diverse Estrazioni Lei Anna Villa Invece è fisico Nel Dipartimento Di Biologia E Biotecnologie Allora Per prima cosa Volevamo ringraziare Nadia Che ci ha dato Quest'opportunità Di partecipare Perché non era Un'opportunità Scontata Visto che noi siamo Una minoranza All'interno Dell'Ateneo E questa Opportunità E questa Occasione È stata Veramente Per noi Un'opportunità Innanzitutto Di documentarci Su un tema Che aleggiava Nella nostra Storia Di vita E che però Su cui non avevamo Mai focalizzato L'attenzione Quindi questa Presentazione È frutto Di una ricerca Bibliografica Molto approfondita Di ampie Diciamo Ore di discussione Tra me Ed Anna Ed è stata Anche un'occasione Appunto Per riflettere Su quello Che è stato Il nostro Trascorso E la nostra La vita Io ritengo Che qui Penso che Anna Si concorde con me Noi portiamo Una voce Che è diversa Da quella Che abbiamo sentito Fino adesso Cioè Fino adesso Abbiamo sentito Tante donne Di successo Di successo Con grandi carriere E noi invece portiamo La voce Di quelle che Magari partendo Da condizioni simili O molto vicine A tutte le altre Ad un certo punto Della vita Hanno fatto Hanno fatto delle scelte Diverse Dire quale sia stato Il punto di svolta Magari è difficile Però È successo Questo Allora Possiamo partire Con Le diapositive Allora Parlando poi Qualche contatto Con altre persone Ci siamo resi conto Che i tecnici Dei dipartimenti Di scienze Non sono molto Conosciuti Quindi Sprechiamo due parole Anche se magari Voi invece Sapete tutto Di chi siamo Siamo Una minoranza Nell'Ateneo Siamo circa Il 7% Circa 40 40 45 persone Non abbiamo Dei numeri chiarissimi Perché la situazione Oscilla Ci sono anche Dei tecnici A tempo determinato Siamo delle figure Ibride Ci occupiamo Della gestione Dei laboratori Didattici E di ricerca Il che vuol dire Anche gestire Gli acquisti I buoni d'ordine Oltre che Proprio le manutenzioni E la parte Tecnica Degli strumenti E diamo supporto Ai docenti Con laboratori Diversi Per gli specifici Insegnamenti Ai laureandi I dottorandi Nel corso Della loro tesi Ai ricercatori In laboratorio E nel caso Del personale Del dipartimento Di scienza Dell'ambiente Della terra E particolarmente Vero Anche sul campo Alcuni di noi Curano autonomamente Progetti Di ricerca Convenzioni E ricerca Convenzionata Che vuol dire Che è tutta la parte Di ricerca Che si svolge Per l'esterno Il supporto A volte Anche un supporto Psicologico Non solo Nei confronti Degli studenti Ma anche dei docenti Se mi è consentito Dirlo Allora Questa è una Rappresentazione Che ha fatto Anna Abbiamo riportato I nostri Titoli di studio Ovviamente La situazione Magari Cioè La rappresentazione I dati Non sono perfetti Perché appunto La situazione È abbastanza fluida Ci sono tecnici A tempo determinato E forse noi Non siamo riusciuti A raccogliere Tutti i dati Relativi a tutto Il personale Però più o meno Questa è la situazione Vediamo che In realtà Le donne Che sono In rosso Sono Fortemente Qualificate Adesso ci alterniamo Parlo un attimo Anna Grazie No Volevo tornare Un attimo Per far vedere Che comunque Anche a un livello Di inquadramento Diciamo così basso Le donne In questo caso Sono il 70% Abbiamo dei titoli Aldi sopra della laurea Al PhD o Master E mentre gli uomini Meno del 30% Ha titoli superiori Alla laurea Quindi siamo Molto qualificate Abbiamo spesso Non siamo più giovanissime Quindi abbiamo anche anni Di Comunque Di Diciamo Alle spalle Di lavoro Abbiamo appunto Cercato di Ci è tornato Che cosa è successo Nella nostra storia Siamo andati a rivedere Oggi Nella Nella ricerca In Europa Come sono messe Le donne Rispetto agli uomini E quello che abbiamo visto È un po' Qualcosa che Più o meno È rimasto Abbastanza uguale Da quando noi Abbiamo iniziato Questo è un dato Della comunità europea È la percentuale Di uomini e donne In una tipica carriera Accademica Che include Delle scienze L'ingegneria Si vede chiaramente Quello che è già Stato detto Cioè che le donne Sono meno Rispetto agli uomini Ma quello che si vede Anche è che Quando inizia Cioè si inizia Ad uscire Ad uscire Dalla Dall'essere studenti Andare verso Essere dipendenti Di un ateneo Di un'università Quello che succede È che le donne Calano sempre di più Ma a mano che si passa Dal dottorato Postdoc Eccetera Si va verso i professori Praticamente diventiamo Sempre di meno La cosa che colpisce Anche è che Nel triennio 2013-2016 Abbiamo cambiato Soltanto di un punto Percentuale E più o meno Se andiamo avanti così Ci vuole circa un secolo Per arrivare Ad essere Il 50% Quello che Poi succede In cui L'abbiamo visto Anche riportato In In diversi Diciamo Studi È che Gli inizi Della carriera Quando noi iniziamo A lavorare Nella ricerca Ed è una cosa In cui ci siamo Comunque ritrovate Dal punto di vista Psicologico Anche È che all'inizio Quello che noi vogliamo fare Siamo delle donne Magari in minoranza In un dipartimento Io ho fatto fisica Per esempio Vogliamo dimostrare Di essere competenti Vogliamo dimostrare Di avere passione Per il nostro lavoro E Diciamo Non ci importa Di dover lavorare Di più degli uomini Vogliamo dimostrare Che comunque Ce la possiamo fare E diventiamo Diciamo Non riusciamo a vedere Che non dipende Tutto da noi Che non è solo Una responsabilità individuale A un certo punto Superato il momento critico Diciamo Della costruzione Della carriera Quello in cui si fanno Alcune scelte Poi importanti Quello di cui spesso Le donne si rendono conto È che abbiamo pagato Un prezzo Molto alto Abbiamo lavorato Tantissimo E non abbiamo visto Che le culture organizzative Non sono neutre Rispetto al genere Di fatto Ci penalizzano Perché sono costruite Su un modello di persona Che non siamo noi Questo è un grafico Abbastanza famoso È la Leaky Pipeline E fa vedere Dove sono tutti i punti In cui principalmente Le donne si perdono All'inizio possiamo porlo Più o meno Alla fine degli studi Molte donne Finiscono per essere perse Diciamo Dalla ricerca Perché manca Il mentoring Degli studi hanno dimostrato Che anche nelle commissioni miste Chi deve decidere Sia uomo che donna Ha un bias Verso le donne Nel senso che Discrimina più le donne E preferisce Prendere gli uomini Ovviamente inconsciamente Sembra che Vengano valutati Più positivamente Gli uomini Per cui si entra Di meno magari Nel dottorato Si hanno meno borse Post doc Quando poi Arriva il momento Della decisione Della maternità Che per una donna Arriva fra i 30 E i 40 anni Quello che succede È che è il momento In cui si dovrebbe Lavorare di più Quindi Pubblicare di più È quello che Invece capita Le donne Che hanno Questo doppio carico Dei figli Se vogliono averne E del lavoro L'organizzazione del lavoro È indifferente A volte anche In contrasto Con la vita familiare E quindi A quel punto Molte donne Di fatto Sono costrette A lasciare il lavoro Oppure Hanno un buco Nel loro Nel loro curriculum Che non verrà mai più Riempito Perché Il modo in cui Vengono valutati I curriculum Non tiene conto Del fatto Che ci sono Dei momenti In cui Noi interrompiamo Il nostro lavoro L'altro punto È Che dopo La maternità Quando si rientra Oppure Quando comunque Non si hanno Abbastanza pubblicazioni Può capitare Che si vedano Delle prospettive Di carriera Poco adeguate Quindi molte donne Decidono di fare Un altro lavoro O alcune Non riescono A rientrare E alla fine Anche spesso Chi arriva Anche più avanti Sente Siamo così pochi Appunto Non facciamo Una massa critica Siamo così pochi Per cui le donne Si sentono isolate A volte si sentono Messe lì Un po' Come per far vedere Come la struttura In realtà Non ha un bias Che Esclude le donne E quindi Tante volte Alcune Comunque Non riescono Ad essere Abbastanza motivate Siamo rimaste colpite Dal fatto Che su Nature Di quest'anno Del gennaio Del 2019 Siano state Riportate La lista Dei desideri Delle madri E le dodici cose Di cui le università Hanno bisogno Questo è per Diciamo La società americana Alcune cose Magari da noi Sono messe meglio Ma ci sono alcune cose Che sono interessanti Per esempio Il riconoscere Che Il congedo di maternità È come un'interruzione Della carriera E quindi va escluso Quando si fa il conto Di quanto uno ha pubblicato Il fatto che La flessibilità Il part time E il lavoro da casa Può essere utile Per riempire Questi buchi Anche la cosa Banalmente Di quando Organizzare le riunioni Cioè non Alle 8 del mattino Alle 6 di sera E le tre cose Che a noi Sono molto piaciute È il fatto Di riconoscere Pubblicamente Che la maternità Nell'accademia Ma anche Nelle aziende È una sfida Che è Difficile Che è faticosa Per le donne E anche riconoscere Il fatto che la diversità Esiste Che ogni donna Può essere diversa Da un'altra Perché ha fatto scelte diverse E che siamo diverse dagli uomini E ultima cosa Questi comportamenti La possibilità Di essere riconosciute Come diverse E avere Una caratteristica nostra Deve essere normale Ma Se noi guardiamo Non sono soltanto Le cose Che possono desiderare Le donne Perché per esempio Pure Research Ha fatto una ricerca Su un migliaio di esperti Per vedere Come cambierà Il lavoro Nel futuro Sappiamo già Che Ormai I ragazzi Che vanno a scuola Faranno probabilmente Delle Professioni Che ancora Non esistono Mio figlio È ingegnere E vuole fare Robotica evolutiva Quando lui Era all'elementari Robotica evolutiva Era forse Una cosa Della fantascienza Per esempio Proprio la robotica Farà sì Che il lavoro Sarà strutturato In modo diverso Che le persone Per un periodo Lavoreranno E poi probabilmente Si dovranno In qualche modo Riciclare Su altre cose E quindi Dovranno tornare A scuola Per cui anche Ci saranno periodi Di lavoro E periodi Di formazione E quindi Alla fine La gestione Della flessibilità Oraria La gestione Di una Carriera Anche con delle Interruzioni Potrebbe essere Un problema Non più legato Solo a compili Di cura Oppure Al genere Quindi siamo arrivati Al punto In cui Forse dobbiamo Pensare Non A fare Il fix The women A riparare Le donne Che non vanno bene Per questo sistema Ma a fare Fix the institution A rendere La struttura Più flessibile Perché comunque Nel futuro Ci servirà In ogni caso E forse E forse La presenza Delle donne Che sono diverse Può aiutare La struttura A diventare Più flessibile Da subito Per cui In conclusione Possiamo pensare Che le donne Sono delle portatrici Di diversità E di innovazione Non delle portatrici Di problemi Perché non possono Essere sempre Qui al lavoro 24 ore su 24 E l'opportunità Può essere Che nell'università In cui ci sono Così tante competenze Trasversali Per esempio Qui abbiamo La sociologia Abbiamo la psicologia Potrebbe essere Un buon posto Dove introdurre Dei nuovi approcci Organizzativi E provare Se funzionano E dal punto di vista Concreto Per uscire Dalle dichiarazioni Di principio Una cosa Che si potrebbe fare Per esempio È chiedere Cioè chiedere Alle donne Che cosa Renderebbe più semplice Lavorare per te Cosa renderebbe più semplice La tua vita Perché alla fine Nel caso della ricerca Per esempio Le idee migliori A me a volte Vengono Quando mi alzo La mattina Ma non timbro Il cartellino A casa Mi alzo E le scrivo Mi vengono Dopo che ho visto Un film Un sabato Non timbro Il cartellino Ma me le scrivo Faccio un lavoro Al computer Anche quando sono A casa Perché Perché mi piace Perché so Che quello è un momento Che poi magari Non tornerà più Quindi Rendere flessibile Il lavoro Potrebbe essere Comunque Un dare valore Al fatto Che questo lavoro Non è a orario Scusate Quindi ringraziamo tutti Io volevo solo aggiungere Una cosa Che Nell'ambito Dell'organizzazione Del lavoro Si può pensare Che noi siamo Molto fortunati Qui all'università Certamente lo siamo Se ci paragoniamo Anche al privato Cioè forse Un po' Il nostro problema È questo Che noi in Italia Ci paragoniamo Al privato Dove veramente Hanno poco Allora Però Essendo che La specificità Del nostro lavoro Di tecnici Purtroppo Il problema Dell'università Secondo me È che Noi siamo Assimilati A questo grande Calderone Che è il personale Tecnico Amministrativo Ma noi non siamo Degli amministrativi Facciamo un lavoro Molto diverso E non solo All'interno Del personale Tecnico Ci sono persone Estremamente diverse E non intercambiabili Fra di loro E quindi Una maggiore flessibilità Faciliterebbe Tutti E riconoscerebbe Il lavoro di tutti Cioè posso fare Anche un esempio Per esempio Riguardo al nostro Dipartimento Le missioni in campo Sono fortemente Penalizzate Dal punto di vista Dei regolamenti L'Ateneo Applica dei regolamenti Che si applicano A chi fa un lavoro D'ufficio Ma non vanno bene A chi fa un lavoro Fuori Ci sono tante cose Che potrebbero essere Aggiustate a costo zero E da questo Si potrebbe partire Bene Grazie Per il vostro Inter Confermo Sul supporto psicologico Come Diciamo Lavoro straordinario Che fate Perché Io Vi ho usufruito Molto Se ci sono domande Commenti Insomma Iniziamo un po' Di Discussione Grazie per la vostra Presentazione È stata Molto Molto Interessante Avete Messo In In ordine Una serie Di elementi Molto Importanti Io ieri Non c'ero E quindi Però diciamo Oggi non era ancora Stata fatta Questo tipo di Diciamo Panoramica Ed è sempre utile E importante Rivederla E riragionarci Sopra Concordo Con tutto quello Che avete detto Aggiungerei un solo Elemento Ricordiamoci Che esistono Anche gli uomini Nel senso che Il Diciamo Il Load Il workload Il carico di lavoro Non deve passare Dalle donne Alle istituzioni Cominciamo a dividerle Bene Con gli uomini Introduciamo Battiamoci Per introdurre Un Congedo Di paternità Che sia Un congedo Di paternità Lungo Serio In modo che I padri Possano essere Realmente Coinvolti Nel Lavoro Di tirare su Un figlio E poi Come mamme Ricordiamoci Di educare I nostri figli Maschi Alla parità Assoluta parità Siamo Interscambiabili Il fatto di allattare Non fa Di noi Delle persone Privilegiate A tirar su Un Bambino Può essere Altrettanto bravo E magari Vedi caso In media Uguale alle donne Ma possono esserci Anche dei papà Migliori Ricordiamoci Questo Perché Questo Secondo me È proprio Un Diciamo Rivoluzione Copernicana Diciamo Proprio Culturale Che è Cominciata Ma è ancora Secondo me Molto 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 Indietro Volevo Specificare una cosa Che prima Non ho detto Al nostro tavolo Sono seduti Uomini e donne Perché il lavoro Va fatto Insieme Si tratta Di un cambiamento Culturale Ovviamente Questo implica Magariere Geologiche Però Ognuno Di noi Ognuno Delle persone Che è seduta In questa stanza Può cambiare Oggi Può già oggi Apportare quel cambiamento Complimenti Perché avete Veramente Riordinato Un sacco di temi Interessanti Grazie Altri interventi Domande Allora Sì infatti Se volete Qualche intervento Anche sull'intervento Qualche intervento Sull'intervento Va bene Allora Direi che possiamo Introdurre Siamo anche in tempo La Cioè Continuare La discussione Con la tavola Rotonda Scusa No Spegnere O Sì O Vediamo la slide Di tuo figlio E Bene Allora Invito Il professor Danilo Porro Che è il nostro Prorettore Alla valorizzazione Della ricerca Che Insomma Non ha bisogno Di presentazioni Giusto Proprio Perché Appunto Che modererà La tavola Rotonda Sì Allora Io metto I Cavalieri Della tavola Rotonda Cioè O ci sediamo O Usate questi Microfoni Vabbè Vabbè Mettiamo io Stesso Allora Mentre prepariamo La scenografia Un attimino Che mi hanno Che mi hanno invitato Adesso vado Adesso vado Faccio L'ossetto Faccio Tirare Con le frecce Ho cercato Di darmi Una risposta E Una risposta Me la sono data Che vi darò Fra poco E la seconda E la seconda cosa Ho notato Che non c'era Un titolo Alla tavola Rotonda Quindi Invitato Dai coordinatori Un po' di tempo Fa Ci ho pensato Un attimino E ho scritto A tutti Coloro Che interverranno Che non capisco Se ci sono tutti Ma adesso vedremo Ma venite Anche un po' più vicino Mi sento Mi sento Un pochettino A disagio In questo contesto E E quindi Perché mi hanno invitato Qual è la risposta Che mi sono dato Bruttalmente Semplicemente Che io Non ho mai avuto Un capo uomo Mai Sono Un biologo Sono un biologo E quando ho iniziato La mia tesi Il mio tutor Era una ragazza Concetta Guardo Paola Ti ricorderai Di Concetta Poi ho avuto La professoressa Ranzi Poi la professoressa Alberghina E ora Il rettore Donna Ok Che mi ha Selezionato Come prorettore Per un particolare Settore I più importanti Sono sempre Il primo e l'ultimo Senza mai mancare Di rispetto In fondo Il primo Perché sei un ragazzino E avevo Una ragazza Un po' più vecchiotta Di me Con un po' più di esperienza Che mi diceva Fai questo 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 E lì E facevi tutto Io il primo giorno Mi misero a lavare le pipette Non lo dimenticherò mai Nella mia vita Sta cosa qui Perché partivo Con l'intenzione Di spaccare il mondo Come tutti coloro Che iniziano il lavoro E l'ultimo E l'ultimo è il rettore Che donna Guarda un candidato Rettore Quando il rettore Ti nomina O fai quello che ti dice O ti dimetti Che non sei eletto È una differenza enorme Quando sei nominato Ok Sono state occasioni In cui non ero d'accordo Ho detto La nostra cosa Io non concordo La fai tu Ma principalmente Sei nominato Quindi mi sono dato Questa risposta Io non sento Lo dicevo a cena Anche ieri sera Per esperienza personale Non sento nessunissima Ma zero Zero differenza Tra lavorare con un uomo E lavorare con una donna So di dire qualcosa Che scatenerà Alcune reazioni Ma anche Funzione di una tavola rotonda E io proprio Non la sento Ieri sera a tavola Dicevo anche Ai Le colleghe e amici Dicevo In università E noi viviamo In un mondo felice Non viviamo Da questo punto di vista Ed è stato anche detto In qualche caso Nel mondo reale Il mondo reale È là fuori È stato detto Anche da te Poco fa È diverso Insomma Viviamo in un mondo felice E molti colleghi Mi hanno detto Guarda Che forse a scienze A biologia A biotecnologia È un mondo felice Ci sono altre aree Dove Questa felicità Non esiste E quindi Ne prendo atto Io però Non volevo oggi Parlare di stereotipi Ne avete parlato tantissimo Ne è stato parlato ieri Riparlare ancora Delle stesse cose Mi sembra Perlomeno fuori luogo Una ripetizione E quindi ho invitato Le persone qua vicino a me Doveva esserci anche un maschietto Che non c'è Quindi mi faccio Vi sparano da solo Mi sparano da solo Per essere c'è un maschietto Ho chiesto Io sono una persona Semplice Credo Informale Avete 7-8 minuti A disposizione Per rispettare i tempi Vi presentate da sole Per cortesia Ok Io ho il curriculum Ho tutto Gli organizzatori Mi hanno preparato Tutta la vostra vita Quindi Però Vi presentate da soli Così dite Quello che volete Venga messo in risalto Di voi stessi Raccontate un attimino Quello che volete Una tavola rotonda Più o meno Quello che volete Perché quando mi invitano A una tavola rotonda Devi dire questo Questo E quest'altro Dillo tu Mi inviti Quello che volete Ma per cortesia Se si può Ammettere in risalto Le difficoltà Che avete incontrato Nell'ottica Della giornata E Per cortesia Ci tengo E l'ho anche Selezionato Scritto E selezionato Adesso Sulla base Degli ultimi Due talks Che ho potuto Sentire Mettere in risalto Che siamo Diversi Perché non siamo Uguali E perché Questa diversità Questo è il mio punto di vista Ha un valore Per qualunque lavoro Si possa fare Perché che si venga a dire Che siamo uguali No Assolutamente no Possiamo fare esattamente Le stesse cose Certamente sì Io non posso partorire Adesso Vi farà ridere Ma un uomo Non può provare Questa cosa qui E ogni volta Che sento una donna Che ha partorito Lo sento dire Come una delle esperienze Più belle Che possono esistere Un uomo non lo può fare Quindi iniziamo Manteniamo l'ordine Ci sediamo Ok Abbiamo anche il microfono Ci sediamo Vedi che c'è tutto Vieni qua Il microfono ce l'hai Allora il primo è Fabiola Tisbini Scusami Il pacco è tuo Buon pomeriggio a tutti Io mi chiamo Fabiola Tisbini Lavoro in IBM Lavoro in questa azienda Da più di 30 anni Quindi ho una grandissima esperienza E nel corso della mia carriera Ho ricoperto Moltissime funzioni E ruoli diversi Ma sempre in posizioni manageriali In posizioni che riguardavano Settori come il marketing Le strategie di marketing La gestione del business La gestione delle vendite E ho svolto queste attività In Italia e all'estero Quindi sia a livello italiano Sia a livello internazionale Negli ultimi anni Ho gestito la divisione digitale Di IBM Italia E in questo momento Gestisco il business per IBM Con le società Di grandi consultant E i top system integrator Che vogliono dire Le big four EY KPMG Eccetera eccetera Più Accenture Reply E tutta una serie di altre società In quest'ambito Ho 7-8 minuti adesso Oppure posso Allora un'altra cosa Che però vorrei dire E che io da tantissimi anni Più di vent'anni Quasi venticinque anni Mi occupo Dello sviluppo E la promozione Della carriera In particolare delle donne Oggi è un mondo Molto più allargato Parliamo di diversity inclusion Ma io mi occupo Principalmente Cioè proprio nel mio cuore C'è questa volontà Che da un punto di vista Anche diciamo Istituzionale L'azienda Mi ha consentito Di poter gestire Di favorire Lo sviluppo Della carriera Delle donne Di far sì Che esista Un concetto Di leadership Al femminile Ma soprattutto Che esistano Tante donne Anche in posizioni apicali Che possono quindi Consentire Alla nostra azienda Di arrivare Ad una leadership Bilanciata Cosa significa? Leadership bilanciata Significa A tutti i livelli Avere una percentuale Di differenza Di genere Che ci consenta Di avere Non solo uomini Non solo donne Ma di bilanciare Questo significa Avere più del 30% Di donne A tutti i livelli Sia a livello manageriale Sia a livello Di posizioni apicali Cioè chi decide In questo ambito In particolare Da un po' di anni A questa parte Una delle focalizzazioni Importanti Per noi Qui io potrei Dilungarmi Sui nostri programmi Le nostre iniziative Che cosa abbiamo fatto Su tantissime cose Però in particolare Vi dico Ovviamente Parlando di leadership Io cerco di far sì Che vengano sviluppati Dei programmi Che consentano Alle donne Di poter avere Dei percorsi Di carriera accelerati Che vuol dire Farsi conoscere Rendersi visibile Avere accesso A della formazione Che possa consentire Loro di imparare Velocemente E soprattutto Di essere promossi In queste posizioni Per quanto riguarda Invece Tante attività Che facciamo Poi noi le sosteniamo Le sosteniamo Col mentoring Le sosteniamo Con altre attività Abbiamo creato Questi comitati interni Io sono la leader Di un comitato interno Che aiuta queste donne Poi abbiamo Dei comitati più tecnici Tantissime iniziative Network interni Ma anche tanti network esterni Perché servono Anche i network esterni Io porto il bracciale Di Stemiamoci Quindi Il nostro distintivo Stemiamoci a questo progetto Di cui è leader Lanna Carmassi In Assolombarda E faccio parte Di questo advisory board Perché con loro E la mia azienda Io e la mia azienda Contribuiamo Con iniziative Con idee Per far sì Che ci sia Questo cambiamento Culturale Ma soprattutto Che in particolare Lavoriamo sulle stem Ci sia Si è data la possibilità A tante giovani donne Di avvicinarsi Alle discipline scientifiche Cercherò adesso Di essere veloce Ma in tutto questo Poi vabbè Io faccio parte Anche di altre advisory board Che sono 30% club Collaboro assiduamente Con Valore D Con Gamma Donna Con tutta una serie Di associazioni Ma quello che mi interessa Che proprio voi Possiate capire E qui mi rivolgo Alle giovani È che c'è tutto un fermento E c'è un'attività All'interno di un ecosistema Che va dalle aziende Dalle aziende private Alle associazioni Alle istituzioni Al mondo universitario Che guardano queste donne Cercano di indirizzare Verso quelle professioni Che daranno loro La possibilità Di avere molto successo Durante la carriera lavorativa Per questo noi In particolare Con la Bicoc E con altre università Da parecchi anni Abbiamo lanciato Un progetto Che si chiama Progetto Nerd Che avvicina Le donne Quando sono Al terzo o quarto anno Del liceo All'indirizzamento Verso le materie Più Insomma Di carattere scientifico E informatico Quindi ingegneria Ingegneria informatica Informatica E come lo facciamo? Entriamo nelle aule E cerchiamo di rompere Un paradigma Perché in passato L'informatica È sempre stata associata Ad una disciplina tecnologica Più per uomini O abbastanza rigida E le donne Effettivamente Le donne hanno più creatività Hanno più Voglia di creare Hanno più Capacità innovative Non riescono ad associare Questo genere di facoltà Al loro modo di essere In realtà Noi rompiamo un paradigma Soprattutto in virtù Di quelli che sono Gli strumenti informatici Che ci sono oggi Certo che poi bisogna capire Le architetture Le grandi cose Ma questo non è un problema Per tutti i ragazzi italiani Che hanno una formazione A livello logico Ottima Poi che cosa serve? Serve veramente Questa voglia Di creare Di innovare E quindi entriamo Dicendo L'informatica è un'arte E quindi Seguiteci L'intelligenza artificiale Avrà bisogno Di persone Con delle competenze diverse Non basta essere Dei tecnologi Non basta essere Delle persone Con delle grandi capacità In quell'ambito Ma bisogna Bisogna associare Questo a delle capacità Che spesso sono Più vicine Alla natura Della donna E allora le donne Capiscono e cominciano Allora noi diciamo C'è questa nostra collega Che è l'artefice Di tutti questi progetti Che si chiama Floriana Ferrara Lei è un informatico Lei dice Prendete la tavolozza E cominciate a pennellare Cominciate a creare Il vostro quadro Questo è il futuro Delle scienze Quindi le donne Devono capire Che in alcuni ambiti Bisogna essere Fortemente creative Allora noi partiamo Con questo progetto Lo portiamo Nei laboratori Della Bicocca E anche di altre Università italiane Sono diverse Le università coinvolte E questo Le fa innamorare Imparano a capire Che cos'è L'intelligenza artificiale Creano delle app Cominciano a costruire Qualcosa Il cui valore Immenso È dato dall'idea Al di là Della realizzazione Le idee che hanno Questi ragazzi Cioè noi poi premiamo Questi progetti Ma sono dei progetti Che hanno Alla base Delle idee Che nessuna persona Ad un'età diversa Riuscirebbe a pensare Di poter realizzare Quindi È grandissimo Il contributo Di tutte le donne In questo senso Devo passare il microfono E questo è quello E questo è quello che ho fatto Però la finanza Non era nelle mie corde Io non avevo Un grande amore Per questa disciplina In particolare Allora Ho fatto questa scelta E mi sono detta Cosa farò adesso Ricevevo in quel periodo Migliaia di Adesso sto esagerando Ma veramente Tante proposte Di colloqui Di lavori Sempre in quell'ambito Non mi piaceva Ma ho fatto Uno stage In una società In una delle prime società Di venture capital Italiane E questo mi è servito Tantissimo Perché questo mi è servito A capire che cosa Volevo fare da grande E allora La prima cosa che vi dico Io ho capito Che la finanza In effetti Non mi piaceva Però era importante Averla studiata Perché questa mi ha dato Anche una competenza Distintiva Nell'ambito del mio lavoro Che mi ha consentito Forse anche di emergere In alcune aree In alcuni momenti La seconda cosa Ho capito Che volevo lavorare In una grande organizzazione In un'organizzazione Che non avesse Diciamo Dei confini nazionali Ma che mi potesse Consentire di lavorare In un ambiente internazionale Di riuscire a conoscere gente Di riuscire a lavorare Nel marketing Nelle strategie E soprattutto Nelle vendite Allora A quel punto Ho capito Che avevo le idee chiare Ho scelto IBM Sono stata molto Favorita E avvantaggiata Dal fatto che Questa è un'azienda Che prima di tante altre Ha creduto nella diversity E quindi ha sempre investito Nelle politiche A favore delle donne Quindi io sono stata Da questo punto di vista Bacciata dalla fortuna E ancora adesso Però tutte le ragazze Che entrano nella nostra azienda Non vedono differenze Fra E discriminazioni Da un punto di vista Di possibilità di crescere Fra uomini e donne L'altra cosa importante Che ho capito È che quindi Primo Quando tu sai Che cosa vuoi fare Al 50% Sei già arrivato Al tuo risultato L'altra cosa Cercate di fare Qualcosa Che veramente Vi piaccia Qualcosa Che è nelle vostre corde Qualcosa Che vi appassioni Perché quando voi Fate qualcosa Che vi appassiona Voi avete La sensazione Non di lavorare Ma di divertirvi E quindi La chiave del successo È proprio questa Io potrei andare avanti Per secoli Ma mi sembra corretto Nei confronti Delle altre colleghe Giusto? Arriveranno domande Dopo Vuoi farlo subito? Mi volevo agganciare A quello che ha detto La collega E anche a quello Che è stato detto Prima Rispetto a quello Che è stato detto Prima Volevo dire Che anche A me Questo incontro Ha dato l'opportunità Di documentarmi E questo Penso Un pochino Che sia Qualcosa Che aiuti Tutti quanti Una cosa Invece Che volevo dire A proposito Di Un po' Legato Al mondo Del privato E appunto Tramite I dati Che ho recuperato Documentandomi Sulla mia azienda Che è Stati Microelectronics È Che Incredibilmente Non me l'aspettavo Noi donne Non contrattiamo Sul salario O Contrattiamo Meno Dei nostri Colleghi Uomini Sul salario Allora Questo mi ha fatto Riflettere Mi sono chiesta Ma Come mai Insomma Questi sono Dei dati Tra l'altro Poi anche confermati Da altre esperienze Con amiche All'esterno Ecco Mi chiedo Se forse abbiamo Una sorta Di insicurezza Che ci portiamo Dietro Forse nel Dover Far vedere Che siamo Bravi Abbiamo Quasi un po' Paura No Di Dobbiamo Prima Lo dicevo io Prima Mi devo sempre Identificare Che anche se sono Bionda Anche se sono Vestita Tutta carina Sono veramente Una matematica Quindi Questo doverci Sempre un po' Identificare A volte Ci crea Magari Una sorta Di insicurezza Che anche Quando ci propongono Un salario Non abbiamo Il coraggio Di dire No Ma forse È troppo poco Ma Ci diciamo Ah è già tanto Che mi danno così Ecco Quindi questo Io volevo Farlo Parlo presente Un po' Come esperienza E magari Così Incoraggiarci A essere Più Più fiduciose In noi stesse Oltre che A trovare Cioè Ad aprire Delle possibilità Anche a prendercele Quelle che ci meritiamo Grazie Questa Sono Due esperienze Di due grossissime realtà ST Microelectronics E IBM Se poi andiamo in altre realtà Sicuramente diverse Però io andrei avanti Per rispetto No no La passione La passione Arriva prima di tutto Quindi Però Dobbiamo avere rispetto Di tutti i presenti Che in qualche modo Si sono preparati Secondo è Marisa Melloni Che è il CEO Di Vito Screen Che però Non ha potuto venire E io ho accettato Che preparasse Un piccolo movie Io non so Se in regia C'è qualcuno Che lo fa partire O dobbiamo farlo partire Noi Lassù stanno leggendo Dove è stato caricato Chiara Tu l'hai caricato Allora Mentre io cerco Di risolvere Il problema tecnico Possiamo andare Al terzo Che è Elisabetta Erba Mentre faccio partire Mentre cerco di far partire Per dopo Buon pomeriggio a tutti Sono appunto Elisabetta Erba Sono una geologa Professore ordinario A Milano Statale Ho qui molti amici Compagni Di corso Che si sono laureati Più o meno Negli stessi anni In cui mi sono laureata io Avrei potuto essere qui Nel senso che Quando un gruppetto Di miei colleghi Hanno deciso Di venire alla Bicocca Mi avevano chiesto Ma Diciamo rinunciato Perché le ricerche Che conducevo Che ancora conduco Erano e sono Significativamente diverse Da quelle sviluppate Dai miei colleghi qui Quindi abbiamo degli ottimi Rapporti anche di collaborazione Di scambi Ma sono rimasta Milano Statale Perché sono diventata geologa Io ero fermamente convinta Fino a Praticamente Dopo l'università Dopo la maturità Di diventare ingegnere Proprio fermamente convinta E poi Durante l'estate Mi ricordo ad agosto I miei genitori Avevano una casa Sul lago di Como Praticamente di fronte a Mandello E guardando le grigne Ancora una volta Un pomeriggio Ho detto Ma io voglio Proprio capire Come si sono formate Queste montagne Essendo monzese Quindi grigne e resegone Erano le mie montagne Cioè un paesaggio Che vedevo tutti i giorni E ho avuto Questa affolgorazione Casualmente in questo paesino In questo paesino Molto piccolo Di villeggiatura Era villeggiante Da tanti anni Anche un professore universitario Geologo Di Milano statale Allora sono andata Allora sono andata a chiedere a lui Qualche informazione E lui mi ha detto In modo categorico Che era un corso di studi Un mestiere da uomini Assolutamente Di non studiare geologia Io sono rimasta Un po' stupita Di questa cosa Però Insomma Ero proprio incuriosita Dalle montagne Da queste Diciamo Opere Della natura Così fantastiche E quindi mi sono iscritta Dopo che mi sono iscritta Sono andata a trovare Questo professore Di cui non dirò il nome E gli ho detto Mi sono iscritta Non venire a chiedermi la tesi Perché io non do tesi Alle ragazze E io gli ho detto Guarda Sinceramente Penso che Mi interessano Altri argomenti Cioè Diciamo Altri tipi di geologia Rispetto a quello Che fai tu E quindi Ci sono altri docenti Uomini e donne Quindi sceglierò Il docente Che si occupa Della materia Che più mi incuriosisce E così mi sono Vabbè Laureata Ho fatto il dottorato Ho fatto il postdoc Sono tornata a Milano Sono diventata ricercatrice Poi professore associato E professore ordinario Stavo proprio pensando Prima Quando io ero studentessa Io ho avuto Un'unica Docente Donna Adesso Come professore ordinario Siamo cinque donne E otto uomini In dipartimento Quindi Sicuramente Sono cresciuti Molte Il numero delle donne Io forse Sono stata Estremamente Fortunata Casualmente Perché Avrei voluto Fare la tesi Con un professore uomo Che purtroppo È mancato Prematuramente Dopo che è andato in pensione Un anno e mezzo fa Per chi lo conosce Professor Gaetani Ma lui aveva troppi laureandi E quindi Sono capitata A fare Una tesi Di cui non sapevo Neanche minimamente L'esistenza Studio dei Nanofossili Cioè dei fossili Piccolissimi Che si vedono Solo al microscopio Ed è stato Un super caso Ma in questo super caso Diciamo Le mie due maestre Sono state Due donne Entrambe Sono state Il numero uno A livello mondiale Nel loro campo Nel campo Diciamo Della micropaleontologia Appunto E per me È stato normale Avere Dei docenti Delle maestre In tutti i sensi Donne E devo dire Che successivamente Rarissimamente Mi sono trovata A Come dire Combattere In quanto In quanto donna Nella mia esperienza Come dire È È Sempre Prevalso Il merito La geologia È un mondo Comunque Dominato A livello Internazionale Dagli uomini Le ragazze Le studentesse Continuano Essere Da noi Per lo meno Circa il 30% Degli iscritti E Ho collaborato Con uomini Diciamo A livello internazionale Non mi sono mai Scientificamente Non mi sono mai Trovata In difficoltà In difficoltà In una situazione Di soggezione Di minoranza Di difficoltà In quanto donna Devo dire Che ultimamente Proprio Quando sono diventata Professora ordinario Ho avuto Due o tre episodi Non molto piacevoli Quando sono diventata Direttrice Della scuola Della scuola di dottorato Che diciamo Riuniva Quattro corsi Dottorato Diversi Uno di questi Coordinatori Penso non Sopportasse L'idea Di essere Diciamo Diretto Da una donna E quindi ho avuto Un momento Un po' Di contrasto E poi A livello nazionale Perché La società geologica italiana È la società scientifica Che raggruppa Tutti i geologi Professionisti Accademici Appassionati Di geologia E ho fatto proprio Il conto Che Dal 1881 Anno della fondazione Ad oggi Ci sono stati Cento presidenti Di cui Due sole donne Una Una mia maestra Milanese E poi io Qualche anno fa E come presidente Della società geologica Mi ha chiamato un uomo Il mio predecessore Mi ha chiesto Di candidarmi E ha promosso La mia elezione Perché comunque È un'elezione È l'attuale presidente Dell'istituto nazionale Di geofisica e vulcanologia Cioè Quel luogo dove Quando viene un terremoto Vedete la sala Di regia Con tutti i monitor Con tutti Plottati i terremoti E ha voluto Proprio lui Che diventasse Cioè Che mi candidassi E mi ha sempre Altro che supportato Cioè Proprio Ha voluto Fortemente Che fosse Che fossi io Non importava Che fossi una donna Un uomo O un uomo E però Come presidente Della società geologica italiana Ci sono state Due o tre occasioni In cui Proprio mi son sentita Usata Cioè In quanto donna Degli altri geologi Diciamo Pensavano di Diciamo Condirmi su In qualche modo Raggirarmi Usarmi Perché Non so Forse non avevo Le capacità O non avevo Le conoscenze Per Diciamo Portare a termine Certi tipi Di discorsi O delle convenzioni Ecco Per il resto Sono mamma Di Una ragazza Di 24 anni Un ragazzo Di 22 anni E Ho un marito E devo dire Che Lavorare con gli uomini Mi ha sempre arricchito Ho lavorato con donne Con uomini La diversità Di genere È arricchente Se si lavora Nel pieno rispetto Reciproco Perché siamo diversi Quindi noi forse Siamo più creative Siamo Multitasking E abbiamo più Forse l'abitudine A dover fare Tante cose insieme E gli uomini Sono diversi E Penso che Comunque Sia Una bella Cioè Ci completiamo Vicenda Da un punto di vista Familiare Uno dei motivi Per cui ho sposato Mio marito È che lui Non perché Gliel'abbia chiesto Come promessa Ma ricordo Che Io gli ho detto Guarda Io sono geologa E voglio continuare A fare la geologa E lui si è messo a ridere Mi ha detto Io ti supporterò Sempre Qualunque cosa Tu voglia fare E quindi Devo dire Che se ho fatto Tutto quello Che ho fatto E anche O soprattutto Perché lui È sempre stato Incondizionatamente Dalla mia parte Mi ha difeso Contro mia mamma Contro sua mamma Che è l'idea Di avere La figlia O la nuora In mezzo all'oceano pacifico Su una nave Per due mesi Non era proprio Diciamo Nello standard Di una mamma O di una Moglie E lui mi ha sempre Sopportato Dei miei figli A parte Le gioie Diciamo Incondizionate Ma devo dire Che mi hanno aiutato La mia esperienza Appunto di mamma A fare delle scelte Perché Anche la mia vita La nostra vita È di 24 ore Non si può fare tutto E quindi In tante occasioni Ho dovuto scegliere Se Diciamo Dedicarmi di più Ai figli O Intraprendere Tanti progetti Contemporaneamente E mi ha aiutato Molto a scegliere Professionalmente Quali erano I progetti Su cui davvero Volevo Impegnare Il mio tempo Le mie energie E penso D'altro lato Che il mio lavoro Proprio all'essere Diciamo Una Io mi considero Comunque una professionista Come docente universitario Abbiamo tanti privilegi Di orari Non timbriamo il cartellino Eccetera Ma facciamo al meglio Il nostro lavoro E una delle più grandi Soddisfazioni Me le hanno dati I miei figli Qualche anno fa Una sera Mi hanno detto Mamma Noi ti ammiriamo Perché Perché sei riuscita a fare Quello che hai voluto A fare la geologa A diciamo Fare la ricerca Andare via da casa Poi tornavi E quindi per me Una delle soddisfazioni Più grandi È stato quello In silenzio Ma Come dire Con l'esempio Di far vedere Che uomini e donne Vabbè Mio marito All'ufficio A 500 metri da casa Quindi lui È Lo stanziale Che va a casa A mangiare Tutti i mezzogiorni Eccetera E invece Era la mamma Che Vabbè Ogni tanto Spariva Poi tornava E quindi Diciamo Devo dire Che Forse Sono stata molto fortunata Non ho combattuto Tanto Per far valere I miei diritti Di donna Ma Ho avuto La fortuna Di avere Altre donne Che Diciamo Convintamente In un certo senso Mi hanno spianato La strada E io Racconto sempre Sia i piccoli Episodio Piccoli Pochi episodi Negativi Ma Anche I tanti episodi Positivi Perché ci sono Tanti Uomini Con cui Si lavora Appunto Io ho una figlia Un figlio E devo dire Che li tratto Li ho educati Esattamente Allo stesso modo Cioè Quello che doveva imparare Uno Dove imparare Che l'altro Grazie Un figlio Comune In tante Tante espressioni Dunque Io metterei Il movie No ti chiedo Scusa Lo metterei Per ultimo Che così Andiamo avanti Con i talk Mi perdonate Lo mettiamo Per ultimo Così vediamo Il movie E poi apriamo Anche La discussione Adesso La parola Luisa Torsi Per cortesia Grazie Buonasera a tutti Sono Appunto Luisa Torsi Non è mai Diciamo Agevolissimo Parlare di sé E soprattutto Parlare Dei propri Successi Diciamo Professionali Personali Ma Lo faccio E lo faccio Volentieri Nello spirito Di Presentarmi Come possibile Role model O modella Di ruolo Per le ragazze Qui presenti Proprio perché Sia Evidente Che Le posizioni Apicali Non sono Più difficili Per le donne Sulla carta Poi nei fatti Le statistiche Ci contraddicono Ma il punto È che Nella sostanza Le posizioni Apicali Non sono Non sono Più difficili Una donna Non è Meno adatta A occupare Posizioni Apicali Sembra una banalità Ma in realtà Le statistiche Ci dicono Che le posizioni Apicali Sono Molto Molto Meno Le donne Occupano Molto Meno Le posizioni Apicali E questo È un problema Molto Importante Perché Ci sono Molti biologi Qua Ma il punto È Il nostro Modo Di operare Va molto Attraverso L'emulazione Se noi Non vediamo Qualcun altro Nel quale Ci riconosciamo In fare Alcune cose Sarà Molto Difficile Che noi Intraprenderemo Quel tipo Di attività E quindi Il fatto Di avere Delle donne In posizione Apicale Significa Dare Un segno Alle ragazze Più giovani Che forse È molto Più importante Di tante parole Quindi In nome Di questo Diciamo Parlerò Di me Sono professore Ordinaria Professoressa Ordinaria Di chimica Analitica Dal 2004 Ho studiato Da fisica Ma ho fatto Un dottorato Di ricerca In chimica E nel 2010 Ho vinto Il premio Hendrick Emanuel Merck Della multinazionale Sono l'unica Donna al mondo Ad aver vinto Questo premio Che non è un premio Per donne È un premio Per donne Per uomini Quindi È stato un riconoscimento Molto importante Per la mia carriera E quest'anno La UPAC La International Union Of Pure And Applied Chemistry Quella della Insomma Nomenclatura Eccetera Mi ha nominato Una delle Donne UPAC Del 2019 Quindi a Parigi A luglio Andrò a ritirare Questo riconoscimento Che è un riconoscimento Insomma Che mi inorgoglisce Molto E diciamo Qual è il percorso Il percorso È certamente Un percorso Di grande passione Un percorso Di grande passione Senza che però In realtà Io Sapessi Che cosa volevo fare A cinque anni No Ho semplicemente Coltivato L'idea Di fare bene Quello Che stavo facendo Di non accontentarmi Di quello Che veniva fuori Come prima bozza Ma cercare sempre Di capire di più Migliorare Capire meglio E questo secondo me È la driving force Che poi porta A ritrovarti Ad aver fatto Magari delle cose Che vengono riconosciute Come belle L'altro Il punto è Diciamo Come donna Diciamo Come mi sono Ritrovata In questo percorso Anche lì Sono Una persona Che aveva Chiaro Ecco Forse avevo Una cosa Chiara Quando avevo 15 anni E cioè Che avrei Voluto avere Una mia famiglia E non avrei Mai rinunciato Alla mia carriera Questo mi era Abbastanza chiaro E quindi non ho mai Diciamo Pensato Di rinunciare Ad una Delle due cose Pur sapendo Che poteva essere Una cosa Difficile E questa Diciamo Struttura Della D'idea Di me L'ho proiettata Sulle persone Che avevo intorno Per cui Ad esempio Ai miei figli Anche nei momenti Più duri Perché Ho sempre Viaggiato Moltissimo Giusto come Digressione A proposito Di dati Personali E di protezione Di dati Personali Google A dicembre Dell'anno scorso Mi ha Comunicato Diciamo Che avevo Girato il mondo Tre volte E mezzo E avevo visitato 71 località Questo è giusto Per dare l'idea Del livello Dei viaggi E questo Non è che Adesso è un ballare Di carnevale Rispetto a quando I bambini Erano piccoli Ho due figli Sono Un P.I.C.D. Student Un altro Un universitario E Conciliare Tutto Non era facile Ma L'organizzazione Paradossalmente Non era neanche La cosa più difficile Perché Se uno È una persona Organizzata Tende Diciamo A Riuscire In quello Era proprio Diciamo Subreggere L'impatto Psicologico Della distanza Del fare Qualche cosa Che non vedi Fare Ad altri E quindi L'angoscia Di dire Andrà bene Andrà male Ci riuscirò Non ci riuscirò E La cosa importante Secondo me È Comunque Rendere Chiaro A chi Ti sta Intorno Che Questa Sei tu Tu Sei La tua La mamma Di famiglia La persona Che ha voluto E desiderato Una famiglia Ma sei Anche Una persona Che Vuole E desidera Realizzare Il suo Potenziale Più Elevato E rendere E rendere Questo Come Un Un diritto Un Non negoziabile E perché Un diritto Non negoziabile Non tanto Perché uno Sia Egoista Ma perché Una comunità Fatta Di persone Soddisfatte Quindi una famiglia Fatta Di persone Che Ambiscono In qualche maniera Riescono A realizzare Il loro potenziale Più elevato Sarà Una comunità Più felice Sarà Una comunità Più serena Le difficoltà Ci saranno Ma quando uno È contento Di quello Che fa E tutti Però devono Essere contenti Di quello Che fanno Alla fine Il sistema Nell'insieme Lavora meglio Ed è un sistema Solidale Ed è un sistema Nel quale Ci si supporta E quindi Questo Riesce Veramente A Rendere A farci vivere Per quel che Possibile Un'esistenza Più felice Quindi Togliamoci Dalla testa E questo parlo Soprattutto Alle ragazze L'idea che La felicità Degli altri È in qualche Maniera Lo scopo Della Delle nostre Azioni La nostra Felicità È fondamentale Perché Questa è L'unica Maniera Con la Quale Riusciremo A rendere Felici Anche gli Altri Intorno A noi Grazie Grazie Adesso Movediamoci Lascerei sempre Il movie Per ultimo Quindi Andiamo Dalle posizioni Apicali A quelle All'inizio Della carriera Arianna E Federica Siete qui? Federica Ok A te adesso Sono Federica Di Lauro Sono Secondo anno Di informatica Qui in Bicocca Sì Tra l'altro Ho vinsi L'anno scorso La borsa Di stimiamoci E Sono qui Quasi per caso Non ero Non sono mai stata convinta Di arrivare in università Anche se la passione Per l'informatica Nasce da quando Ho 12-13 anni Ero in Terza media E dovevo decidere La scuola superiore Io volevo andare All'ITIS informatico Andai all'open Andai C'era una classe Di soli ragazzi Ero un sacco A disagio E Ciò mi ha provato A non iscrivermi A quell'ITIS Sono finita Ragioneria E L'informatica È rimasta un po' Nell'angolino Fino al quinto anno In cui ho incontrato Il mio professore Di informatica Che A forza di Dirmi Federica E la testa Vai all'università Federica E la testa Vai all'università Mi ha convinta Quindi Anche arrivando In informatica Eravamo in 30 Su 380 E Mette un po' Di saldo la cosa Ci si sente Molto una minoranza Sì Quando Ho iniziato A partecipare A un'associazione Di informatici Il Linux user Gruppe della Bicocca Unixmib E ho iniziato A partecipare Attivamente Ora siamo Circa Un Sette persone Attive nell'organizzazione Di cui due ragazze E La tiriamo avanti Siamo Ed è una bellissima Esperienza E se non mi fossi Buttata in questa cosa Non avrei neanche scoperto Qual è il settore specifico Che mi interessa Perché l'ho scoperto Grazie a Unixmib Organizzando eventi Sentendo persone Che vengono a parlare Dall'esterno E Quindi Si tratta di Di realtà Di non sentirsi Così diverse Una volta Che Che si partecipa E sono qui a portare Questa esperienza Appunto perché Mi dispiace Perché so che Per tante ragazze Che magari si sentivano Come me Tante non si sono iscritte In informatica E sono andate Su altri vidi E Questo mi dispiace Particolarmente Passerei la parola All'altra studentessa Di fisica Federica Grazie Guardate che non è finita E non rilassarti Che arriveranno domande Ciao a tutti Io sono Arianna Bresce Sono al secondo anno E studio qui In Bicocca fisica La realtà che porterò io È leggermente diversa In realtà Da quella Confronto a Federica Io vorrei raccontare Un po' La mia esperienza Sono sempre stata Una bambina normale Mi piaceva giocare Con le bambole Mi piaceva vestirmi di rosa E non l'ho mai vista Come un'imposizione Era una cosa che Semplicemente Mi piaceva Poi Crescendo Ho deciso di iscrivermi Al liceo classico Eravamo quasi tutte ragazze Anche il corpo docente Era principalmente Composto da donne Mi impegnavo molto Studiavo molto E allo stesso tempo Mi piaceva anche Non so Pensare a come truccarmi A un paio di scarpe Ma non ho mai visto Queste due cose In contrapposizione La mia creatività Non era limitata Dal fatto che magari Un giorno Volevo tagliarmi i capelli E non pensavo In quel momento A studiare Perché erano due parti di me Che convivevano Senza problemi Poi ho deciso Di iscrivermi A fisica Il mio primissimo ricordo È legato a un open day Ho chiesto informazioni In portineria Riguardo all'aula E la risposta è stata Ma signorina Guardi che È l'open day di fisica E io Inizialmente Non ci ho fatto Molto caso E ho detto Vorrà sapere Se effettivamente Mi ha dato L'informazione giusta Tuttavia Poi Mi sono confrontata Con conoscenti E ho iniziato a dire Sì Ho deciso Di iscrivermi a fisica E ho segnato Alcune delle risposte Che mi hanno dato Ma Una ragazza Che fa fisica Sei sicura? Come farai Con la carriera E la famiglia? Ah ma non è Un ambiente per donne Che strano Vedere una donna fisica Ah quindi Esistono davvero scienziate? Se pensando Di uno scienziato Ti viene in mente Sempre un uomo Questa situazione Mi aveva un po' spiazzata Perché Certo Studi storicamente Le conquiste delle donne Ma effettivamente Pensi Nel ventunesimo secolo Ancora un problema La disuguaglianza di genere Io Avendo fatto il liceo classico Sono sempre stata circondata Da donne E quindi Non abbiamo mai avuto Cioè Sapevamo dell'esistenza Del problema Ovviamente Perché Vedevamo il telegiornale Leggiamo i giornali Ma non ci toccava Così da vicino Poi Mi sono confrontata Con altre studi Dentesse Anche di altri atenei Sempre che studiavano fisica E mi hanno iniziato A raccontare storie Disarmanti Per esempio Parliamo Dell'ambito Dei docenti Spesso Un ragazzo preparato Andava un esame E questa era la normalità Se invece fosse stata Una ragazza Ad andare preparata Il pensiero Sarebbe stato Ah cavolo Una ragazza preparata Come se ci fosse Una diversità intrinseca Nello studio Delle due parti O ancora Mi hanno raccontato Di un episodio In cui un ragazzo Ha chiesto A una sua compagna Di corso Dei chiarimenti E l'insegnante Ha detto Ma non ti vergogni A farti spiegare Da una ragazza E Altri episodi Di questo tipo Però Mi sono detta Forse È un problema Sempre legato al passato Di fatto I docenti Non sono miei coetanei E ho iniziato Ad analizzare Il rapporto Con i miei coetanei Da una parte Ci sono gruppi Molto etereogenei Che Non ti fanno neanche Sentire Giustamente La diversità Dall'altra parte Invece Ho iniziato A notare Che i ragazzi Tendevano Ad aggregarsi In gruppi Solo maschili E In un gruppo Facciamo un esempio Due ragazzi Due ragazze Un ragazzo Tendeva a fare La domanda In presenza Delle altre ragazze Soltanto Al ragazzo Dando addirittura Le spalle Alle altre ragazze Della serie Questa non è una questione Per voi E Quindi Ho iniziato A rendermi conto Anche Del fatto Che il pregiudizio Fosse Inconscio Spesso E Venisse vista Come una cosa Spontanea Naturale E A riguardo Voglio collegarmi Ad un episodio Invece legato A dei bambini Perché Come abbiamo detto Anche durante la giornata C'è il problema Del non avere dei modelli Io ho partecipato A un evento In cui c'erano Delle classi di bambini Alle elementari Che andavano In diversi stand Di ricerca Allora C'erano dei ricercatori Che hanno cercato Di spiegare Più o meno Come fosse La vita Dello scienziato E c'erano immagini Di soli scienziati uomini A un certo punto Sono comparse Delle foto Con anche delle donne Un bambino Che avrà avuto sei anni Si è alzato E indicato Dicendo Ah ma quindi Ci sono anche Delle ragazze Che fanno le scienziate E una bambina E una bambina Ha chiesto Ma se ci sono anche Delle ragazze Perché voi siete Solo uomini Lì allo stand E successivamente Poi ho sentito Una conversazione Tra bambini E una bambina Ha detto Ah che bello Allora anch'io Voglio fare la scienziata E il suo compagno Ha detto Forse è meglio Se fai la ballerina E quindi Di fatto Ho iniziato A pormi anche io Delle domande Inizialmente però Erano le domande sbagliate Molte volte mi sono detta Non è che sono Nell'ambiente sbagliato Non è che non ce la posso fare O peggio Domande del tipo Ma se vado in università Truccata Apparirò più stupida E quindi Sulla carta Come è stato detto Noi donne Possiamo andare all'università Possiamo fare Il liceo scientifico Possiamo fare tutto questo Però di fatto Le donne possono fare Tutto tranne quello Che è considerato Solo per uomini Allora Adesso abbiamo Il movie Poi erano invitati Tutti i coordinatori Il dottorato Sei l'unica presente Allora Era stato invitato Un maschietto Ok Tu sei un altro Un altro coordinatore Volete dire qualcosa Perché qui è saltato Il maschietto Uso questa terminologia Considerando la giornata Il nome è Sergio Crippa E avrebbe E' stato salutato Perché sta lavorando Nella battuta E' stato invitato Ah ok Allora Mentre lavora Perché abbiamo ruoli diversi Capite Adesso al di là Della battuta Paola Vuoi dire qualcosa Non era programmato Quindi non ti sei preparata Ma sei donna Coordinatrice Anche tu Volete dire qualcosa Ma innanzitutto È sempre interessante Fare queste riflessioni Che danno degli È come se ci fosse un prisma Qua C'è un problema O una tematica Che è uscito In tutta questa gamma Di colori Che quindi è sempre Molto bello E quindi ci sono Sempre tanti spunti Che adesso Mi porto a casa Quello che Mi piaceva sottolineare È questo fatto Come dire Questo doppio aspetto Di quella che è La tua sensazione Come donna E di quello che è Lo specchio O riflesso Che ti dà Quindi questo è Sempre molto È molto interessante Ed è uscito Dagli interventi In modo diverso Ad esempio voi due Avete dato Come dire I due aspetti Complementari Quello personale Che cosa ci faccio io Se questo è un problema mio È un problema fuori Cosa ci faccio Col problema dentro E qual è Lo specchio Che mi dà la società Quindi In tutto quello Che abbiamo detto Questi due interventi È come se mi si Mi abbiano Ripresentificato Questa cosa E mi piace molto Dell'intervento Che hai fatto tu Questo che è un mio punto Anche molto Quando mi vedo Un po' persa Questo dell'essere occupati E non preoccupati Quando ci occupiamo Invece che preoccuparci Di solito ci centriamo Di più E questo ti aiuta Anche a vedere Che cosa è importante Per me Ed è l'aspetto Che dicevi tu Dell'esterno Veramente quello Su cui mi stavo Interrogando Negli ultimi anni E quanto questi modelli Agiscono ancora dentro Di me in maniera inconsapevole Ho avuto la fortuna Di partecipare Con il museo Della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci A un progetto europeo Che si chiama Ipatia E lì ad esempio Sei chiamato come docente A vedere quanto i modelli Tuoi progressi Che dai per scontato Possono comunque agire Ancora su di te Non essendone tu Consapevole Quindi è stato Un bel momento Di riflessione personale E ne sto facendo qualcosa io Proprio perché appunto Come dicevi Anche con l'esperienza familiare A casa Quella che parte con la valigia Quello che parte con la valigia Non c'è Non c'è distinzione Ogni tanto mia figlia Dice solo Ditemi se devo fare la valigia Anch'io Perché lei ha capito Che ogni tanto L'incrocio familiare Non funziona E quindi anche lei Deve fare la valigia E andare dalla nonna Questa è l'unica cosa Che lei ha capito Però Però è interessante Questo modello Perché io lo porto Sempre come esempio Quello che mi sono accorta Negli ultimi anni Che parlando di biocarburanti E avendo sempre Dei problemi A distinguere i cetani E gli ottani Cosa che comunque Continua a non ricordarmi Che cosa sono i cetani E cosa Mi sono accorta Che tendevo a chiedere Ai ragazzi Se mi aiutavano Con i cetani E con gli ottani Salcelo perché Loro dovevano sapere Di più delle ragazze Quindi è una riflessione Continua Che si può fare Anche su di sé Quando ci sono dei modelli Progressi Che giocano Anche su di te E un piccolo esempio Visto che oggi Nadia vi ha portato L'esempio Della nostra Spin off Quello che posso dirvi È che però Lo specchio Che mi viene dal mondo esterno È stato che ci siamo seduti A un incontro di lavoro Eravamo in una company Dove c'era il proprietario Ci siamo tutti presentati Ed era chiaro Che io ero il presidente Della società E a un certo punto Lui non si ricordava il mio nome Cosa che capita anche a me E si è riferito a me Dicendo E la signora là Ha qualcosa da dire Che io voglio dire Mi chiedo Se ci fosse stato un uomo Al mio posto Se l'avrebbe chiamato Il signore E vabbè Sono scoppiata a ridere Finita così Perché non so neanche cosa dire Però è quello che ci dà Lo specchio del mondo Insomma Gli episodi Sono sempre interessanti Però ripeto Mi interessano Soprattutto se riesco A farci una riflessione personale Quindi mi sembra Che i vostri due esempi Siano molto belli Così come questi di vita Perché vanno sulla stessa linea Di farne sempre un punto Di arricchimento personale Buonasera Vengo giù un attimo Accanto a Paola Maria Lucio Frezzotti Io sono Il coordinatore Di un corso di dottorato a scienze In scienze chimiche Geologiche e ambientali E devo dire Che è estremamente interessante Vedere La nuova generazione Nuova generazione Di studenti Studenti di dottorato Studenti studentesse E noi abbiamo un corso Multidisciplinare Quindi abbiamo i geologi Abbiamo i biologi Abbiamo i chimici E uso il maschile Per non usare genere E io devo dire Che io sono un geologo Di estrazione Quindi siamo delle Come la Elisabetta Siamo un po' delle Personaggi esotici Perché la geologia È tipicamente maschile Io poi sono una petrologa Direi che È proprio Laddove Petrologia Vulcanologia Si concentra Al massimo Della presenza maschile Però io vedo Un grosso cambiamento Nelle nuove generazioni Io vedo I nostri studenti I nostri studenti Almeno del corso di dottorato Io non vedo Questioni di genere Quindi Molto probabilmente Poi l'impatto Con la società Con la società Poi italiana Perché noi abbiamo portato Esempi Che io riconosco Molto nell'Italia Magari meno Nella Norvegia Come gestione Delle cose O negli Stati Uniti Però Io vedo Un grande cambiamento Vedo un grande cambiamento Nelle nostre studentesse Nei nostri studenti E quindi sono Molto Molto ottimista Fermo restando Che le problemi Le criticità Di cui avete parlato Che ho ascoltato Con interesse Sono oggettive Sono reali Sono della nostra società Però io sono Molto ottimista Per quello che vedo A livello di studenti E vi ringrazio Per questa opportunità Allora Adesso siamo pronti Ti abbiamo lasciato in piedi Siamo pronti Per L'intervento Virtuale Ce lo fai partire tu? Perdonami 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 Visto che c'è un giro di tutti No, non occorre Faccio in fretta Io sono Marta Calvi Coordinatrice del dottorato In fisica Volevo Aggiungere solo due cose Uno È che Lavorando nella fisica In un ambiente Molto internazionale Spesso questo tipo di discorsi L'ho fatto anche Con colleghe e colleghi Del resto del mondo E Nell'ambito della fisica Questo Disuguaglianza Nei numeri Devo dire che All'estero È in molte nazioni Anche peggio Che in Italia Quindi Penso che sia interessante Pensare che non siamo Una società Particolarmente Critica Su questo punto Ma anzi Nazioni come La Germania O l'Inghilterra Hanno Molto più Forte questo problema Mentre Italia Spagna E in relazioni latine Hanno una percentuale Di donne Che è Piccola Perché Nel nostro ambito È del 20% Al massimo Però Migliore Quindi questo È un problema Che effettivamente È interessante discutere Va discusso a livello Molto più globale Che non Locale Dal punto di vista Del dottorato Effettivamente Anche In questo Non sono tante Le ragazze Ma Il punto Penso che sia Una situazione Appunto a monte In quelle che Arrivano Effettivamente A prepararsi Io nella mia carriera Ho notato Una Vedo Che c'è una differenza Come era citato prima Fra quello che uno Percepisse Soggettivamente E quella che è La situazione Esterna Perché Penso che per molte donne Non ci si rende conto Del fatto che Ci possano essere Differenze Nella valutazione Esterna Per noi Voglio dire Per noi è normale Considerare Che la nostra Preparazione Deba essere Allo stesso livello Degli altri Quindi È importante Confrontarsi Con Come ci vedono Gli altri Per poter Rendersi conto Di questo problema Penso Anche se Devo dire Francamente Sono rimasta Un po' stupita Dai commenti Riguardo alla fisica Della studentessa Perché Non me li aspettavo Quindi Penso che valga la pena Andare avanti A discutere Su queste cose E In università I modelli Ci possono essere E ci debbano essere Sempre più Visibili Per poter aiutare Gli studenti Grazie Grazie E vi racconto Rapidamente La mia storia La mia vita Di Imprenditrice E di ricercatrice Nasco in una famiglia Di farmacisti Sono la terza generazione Ho sempre avuto La curiosità Per Sì La scienza I meccanismi Capire E andare in profondità Nei meccanismi Ho fatto Un percorso Universitario Parallelo Tra Tra L'approfondire Le tecnologie Formulative Le tecnologie Legate Ai prodotti E anche In parallelo La biofisica E la biologia A livello Cellulare E molecolare Ho sempre avuto Un percorso Ripeto Parallelo Sono stata Per quasi tutta La mia Carriera Sia Professore A contratto In diverse università In Italia Nella facoltà Di farmacia Che Impiegata E poi Responsabile Della ricerca In alcune aziende Italiane E non solo Ho creato Nel Nel 2001 Un laboratorio Che si chiama VitruScreen Questa idea È stata Maturata Nel tempo E direi Che ci pensavo Già dagli anni 90 Quando c'è stata A livello Internazionale E a livello Scientifico Una grande novità E cioè La presenza Di modelli Di tessuti Umani Ricostruiti Tridimensionali Disponibili Commercialmente Questo ha Aperto Un varco Ha aperto Non solo un varco Ma un delta Di opzioni Di valutazioni Precliniche Che permettevano Per la prima volta Di valutare Prodotti Ingredienti Miscele Non solo Su un sistema Così semplice Semplificato Come il sistema Cellulare Ma su un sistema Di tessuto E quindi avvicinarsi Molto di più A quello che è La realtà Dell'applicazione Sull'uomo A livello Superficiale Diciamo A livello Delle barriere Del corpo Sia come dosi Sia come tempi Ma soprattutto Tenendo conto Della presenza Di una barriera Le barriere Biologiche Che sono La base Della tossicologia Questa passione Mi ha portato A creare Un laboratorio All'interno Di un'azienda Italiana Di notevole Valore scientifico E poi A maturare Quest'idea Quest'idea Un po' Devo dire Da pionieri E anche Abbastanza Rischiosa Visto che L'approccio In vitro Col modello Tridimensionale E l'approccio Anche preclinico Non solo Tossicologico Non erano All'epoca Ancora Molto Direi Diffusi Esisteva Però Una potenza Una forza Del pensiero Che è Quello Delle Tre R Sostituzione Dell'animale Sostituzione Anche direi Di tutta L'approccio Tossicologico Tradizionale Che Negli anni Matura E Ha maturato E che Adesso Direi È Il nostro Quotidiano È quello Su cui Tutti I ricercatori Lavorano Negli anni Mi ha fatto Anche piacere Vedere Crescere All'interno Del nostro Laboratorio La consapevolezza Che anche i sistemi cellulari Potessero essere migliorati E abbiamo sviluppato Internamente Con notevoli investimenti E direi Anche Passione Scientifica I modelli Di organoidi Che sono L'alter ego Oppure Oppure la La risposta Totale Della Necessità Di esplorare Le risposte A livello Dell'organismo Umano Il nostro È un laboratorio Di 12 persone Abbiamo Circa Siamo Abbastanza Equilibrati E le opportunità Che si aprono In un laboratorio Come il nostro Sono direi Quasi infinite Abbiamo Opportunità A livello Regolatorio Quindi di Aggiornamento E di Precisione In quello che è La richiesta Normativa E quindi L'approccio Preclinico Che deve essere Dato All'industria Lavoriamo Con industrie Di tipi Molto diversi Dall'industria Chimica Fino All'industria Dei pesticidi Al nutrizionale Al farmaceutico Al cosmetico Opportunità Regolatorie Opportunità Di Mostrare La propria Curiosità E direi Non solo Scientifica Ma curiosità Di vedere Oltre Di creare Un futuro Alla valutazione Preclinica In vitro Come direttori Di studio Come ricercatori Come team leader E un'altra Opportunità All'interno Del suo laboratorio Di operare E di far Operare Secondo Un sistema Di qualità Che viene definito BPL Like Quindi Della buona Pratica Di laboratorio Ed è stato Da poco Emesso Un documento Da parte La commissione Europea Che regola Qualsiasi attività In vitro Anche Che regola Che vorrebbe Regolare E dare Quindi Un criterio Di qualità Anche a Tutte le operazioni Di ricerca A livello Dei laboratori Dalla primissima Idea Del ricercatore Fino Alla convalida Sperimentale Del metodo Tutte queste Attività Sono svolte Quotidianamente Nel nostro Laboratorio E credo Rappresentino Un'opportunità E una Direi Bellissima Esperienza Scientifica Da non Trascurare Io credo Che il mio tempo Sia scaduto Ho ancora Pochi minuti Professor Porro Mi ha detto Di essere Molto Legata Ai tempi Quello che vorrei Aggiungere È questo Il contesto È il contesto Delle donne Della ricerca La donna È a mio avviso Portata Estremamente Alla precisione Alla Passione Anche Verso quello Che fa Dimenticando Qualsiasi Ostacolo Che possa Mettersi Nel suo Percorso Sicuramente Intraprendere Un'attività Come quella Che noi Quotidianamente Svolgiamo Nel nostro Laboratorio Richiede Una buona dose Di intraprendenza E di Rischio Rischio Che deve essere Compensato Dalla Direi Consapevolezza E Dalla Sicurezza Di operare Con dei criteri Assolutamente Robusti Con dei criteri Condivisibili Con dei criteri Trasparenti Che permettono A qualsiasi Lavoro Che venga effettuato Un laboratorio Come il nostro Di essere accettato Grazie Allora Grazie Le due Collaboratrici Volete dire qualcosa Forza Siete in 12 In quanti siete Siamo in 12 Rappresentiamo In effetti Due aspetti Del Del laboratorio Io mi occupo Di assicurazione Qualità Silvia È il team leader Ed è proprio L'esempio Che ci siamo sentiti Di portare Proprio perché È giovane È giovane È arrivata Da noi Due anni fa E rispetto a quello Che appunto Diceva La dottoressa Meloni Che io ormai Conosco dagli anni 90 Quando ci siamo Conosciute In azienda È proprio L'esempio Di dove La passione La capacità E la volontà In un'azienda Comunque Piccola Che In qualche modo Mette a dura prova Anche La vita quotidiana Io parlo Da mamma E quindi Si fa Fatica L'esempio Anche l'ha portato La professoressa Di prima Si è sempre Posti di fronte A delle scelte A delle fatiche L'azienda piccola Devi essere pronta A tutto In qualsiasi momento E Silvia L'ha saputo Cogliere Ed è per questo Che appunto Ci siamo sentite Di portarla Come esempio Perché nel giro Di due anni Da tecnico Di laboratorio È passata Direttore di studio Ed ora A team leader Quindi Lascio la parola A lei Sì Io Ho studiato Biotecnologie E ho fatto Un dottorato In biotecnologie Alla statale Mi sono dottorata Nel 2016 Alla fine Del 2016 Sì E ho poi Iniziato Un postdoc Poi Non sentivo Che era La mia strada Mi è arrivata Questa possibilità Dopo un anno Ero molto appunto Incerta sul mio futuro Perché come penso Sapranno tutti In università La stabilità Contrattuale È un problema Quindi Ero molto curiosa Di questa nuova esperienza E Sono stata appunto Assunta come Tecnico di laboratorio E però Sono stata messa Subito davanti A molte sfide A un carico di lavoro Molto più grande Scadenze Rapporto con clienti Quindi È servito tantissimo Per crescere professionalmente E sono molto contenta Di aver ottenuto Dei frutti Anche in modo abbastanza Rapido E chiaramente Ancora non ho Una famiglia Non ho bambini Quindi per ora La vita è Tutto sommato facile E poi Dovrò capire Come conciliare Questo con La vita personale Però Spero di Avere anche il supporto Dell'azienda Per cui lavoro Sì Sì Applausi No Siamo Più o meno La metà Adesso Forse siamo Più donne Che uomini E devo dire Che anche In sede di colloquio Non ho sentito Minimamente E ora Faccio anche Colloqui Con la dottoressa Meloni A fianco E non abbiamo Minimamente Diciamo Questo tipo Di criterio Anche di età No Ma La domanda è Quando tu Avesse una Proposizione Era che fare Con persone All'esterno Non è La paura Che Non è L'agenda Che Non c'erano I uomini Dicono Di solenze Le cose Sto chiedendo Come sono I rapporti Internamente All'azienda Che sono 12 Criticità Zero O Facilmente Superabili Immagino La domanda è Nei rapporti Che tu hai Personalmente Con le persone All'esterno Dell'azienda Hai notato Noti Differenze Determinate Dal genere Dal genere No Forse più Dall'età Che dal genere Nel senso Che Quando sei giovane Forse anche Guadagnarti Credibilità È giustamente Più Difficile Però ci sta Perché l'esperienza Fa tanto Quindi Però di genere No Assolutamente Ci troviamo Noi a lavorare Principalmente Con la Francia Quindi Culturalmente Molto simile A noi Penso Quindi No Da questo Punto di vista Per niente Il messaggio Adesso Apriamo La discussione Il messaggio Che mi porto a casa Sbagliato Giusto che sia Ma è quello Che mi porto qui A casa È che Questa è un'isola Felice Al di là Di alcuni casi Non sei l'unica Non sentirti A disagio Non ho già sentite Storie come quelle Che hai raccontato Le altre persone Qui A Bicocca Quindi non tutte le aree Sono felici Quindi il problema Certamente E delle criticità Ci sono Lo sottolineo Non sentirti A disagio Perché poi tutti Continuano a dire Non ci sono Non ci sono No No C'è Delle criticità Ci sono E probabilmente Fuori da questo mondo Forse Un pochettino Di più Perché noi viviamo Io credo di vivere In un mondo isolato Onestamente Magari è solo Una mia percezione E la mia percezione È che le criticità Siano Più gravi O grevi Che vuol dire Che è un problema Culturale Più basso È il livello Più ci si allontana Dal livello Opicale Guardo le No Non solo Ma per esempio Ci sono dei mondi Dove Gli uomini Gestiscono Le posizioni Più importanti Perché gestiscono Il potere Cioè noi non possiamo Allora Io per esempio Nella mia realtà Vi ho parlato Di un'esperienza Fortunata Ho avuto anche io Delle difficoltà Come donna Ma soprattutto Ho visto tante colleghe Avere difficoltà Nella mia azienda Altrove Quando Nel momento in cui La lotta Veniva gestita Per poche posizioni Posizioni di potere Gli uomini Questo privilegio Non lo vogliono perdere Per cui E' importante Che non si esca Da qui Convinti Che abbiamo Risolto Tutto Quindi è importante Invece Capire che ci sono Grande opportunità Se avete il potenziale Siete determinati Avete voglia di farlo Non sono Né la famiglia Né la maternità Che vi impediscono Di farlo Anzi Oggi Sempre di più Dallo smart working Ad ogni altra Forma di flessibilità Vi sono dati Degli strumenti Per poter gestire Famiglia e lavoro Meglio di prima Avete tante role model Femminile Tante cose che abbiamo Toccato e visto In questa sala Però Non uscite da questa stanza Pensando che abbiamo Conquistato tutto Io a tutte le donne Dico assolutamente Voi Cioè proprio Continuate Ed è una Continua battaglia Soprattutto nel momento In cui le posizioni Si restringono Perché è più difficile In posizioni apicali Perché ce ne sono poche E quindi c'è qualcuno Che deve lasciare Una poltrona E vi assicuro Che nessuno è felice Di farlo Nelle donne E negli uomini In questo momento Ce l'hanno gli uomini Per cui Allora io cerco Di coordinare Vado in ordine Vado in ordine cronologico Di richiesta Sì volevo soltanto dire Ricordiamoci delle statistiche Io quando 15 anni fa Mi sono affacciata Al problema Del ruolo delle donne Nella scienza Ero fortemente convinta Che il problema Non esistesse Perché prendevo me Come metro di paragone E dicevo Ma io non mi Sembra di aver Subito discriminazioni Quando ho cominciato A frequentare Dei seminari In cui venivano Riportate le statistiche Ho guardato le statistiche E ho detto No Il problema c'è Ed è un problema grave Che va affrontato È un problema culturale Non sarà di facile risoluzione Ma nel momento In cui noi oggi In Europa Abbiamo il 20% Delle posizioni accademiche Di professore ordinario Occupato da donne E l'80% Delle posizioni Di professore ordinario Non rettore Non direttore generale Occupate da uomini Vuol dire Che c'è Il complemento a 50 Il che vuol dire Circa un 30% Di uomini Che occupa Una posizione Che in base Al semplice merito Dovrebbe essere occupata Da una donna Poi è chiaro La strada è lunga Ma siamo ancora Al 20% E ricordavano Appunto Scusate non mi ricordo Il vostro nome Le tecniche laureate Che hanno fatto Appunto La relazione Sul Ci hanno ricordato Che la rate Di progressione Verso dal 20% A aumentare Fino ad arrivare Al 50% Nell'ultimi anni È stato dell'1% E ci sono delle previsioni Che danno Ancora Tempi Dell'ordine Dei 50-70 anni Per arrivare A riequilibrare Il numero di donne Il numero di uomini Nelle posizioni Apicali Abbiamo il diritto Di voto Da 70 anni Se guardo indietro Mi sembra un secolo E forse di più Culturalmente Diciamo Quanto è passato Da quando le nostre nonne Hanno guadagnato Il diritto di voto Altrettanto Abbiamo davanti Perché le posizioni Apicali Si riequilibrino Seguendo Appunto Le previsioni Che vengono fatte Appunto Da Quindi insomma La strada è lunghissima Ecco qua Io cerco di raccogliere In ordine Io volevo dire Due cose Se mi è consentito Una È La ragazza Io Nella Delisabetta Probabilmente Altrettanto C'era un docente Nostro Cittastudi Che diceva Delle cose Irripetibili Alle ragazze E io solo Adesso Che oggi Vado Verso i 55 anni Ritengo In maniera conscia Di poter dire Erano delle molestie All'epoca Io pensavo Erano delle battute No Erano delle molestie Questo Oggi Gli so dare Il vero nome Quindi Non sei sola E la seconda cosa Che vorrei dire È quella Riguardo al dottorato Di Geologia Che è quello Che conosco E vedo i ragazzi Li vedo passare Perché tanti sono Prima miei studenti Che aiuto per la tesi Poi fanno il dottorato Io sono in gruppo di geologia applicata Che è esclusivamente di uomini Nel mio piano È esclusivamente di donne Di uomini Però i tecnici Sono quasi La predominanza Sono donne Anche qui ci sarebbe da farsi Delle domande I ragazzi Che passano Sono prevalentemente maschi Però c'è A mia memoria Non è una statistica È una memoria Un gruppo In cui Di ricerca In cui le dottorande Sono moltissime donne Ma moltissime ragazze Una ragazza Ha anche vinto Un premio prestigioso Che gli ha dato Quest'università Ma Chi passa L'unico RTDB Chi passa È l'unico A mia memoria È l'unico ragazzo C'è ancora La forbice Quella che ha fatto vedere Anna Che si apre Proprio nel momento Del dottorato È molto ampia E la geologia Secondo me È ancora veramente Forte Grazie Giusto Io volevo fare Un'osservazione Che secondo me Va fatta Cioè Non è nemmeno Perché qui stiamo parlando Di STEM Allora una delle obiezioni Che si fa sempre È ma non ci sono In alcune aree Non ci sono le masse critiche Allora Appunto Le famose statistiche Che avete mostrato Riguardano anche Le discipline umanistiche Dove la famosa Massa critica C'è E però Se si va Agli apici Non si trovano Donne Che corrispondano Alla massa critica Quindi questo Del discorso Da massa critica È un discorso appunto Da affrontare In questi termini E da evitare L'altra cosa Che volevo dire Specialmente Per il professore È che L'ho detta ieri E la ripeto Mi scuso Con quelli che C'erano È che C'è una discriminazione Tipica dell'accademia Io me ne sono accorta Quando mi hanno invitato A Helsinki Anni fa All'istituto di cultura italiana Alla fine degli anni 90 Per discutere appunto Di donna e scienza Io sono andata E ho detto Qui mi fanno nere Nera Mi fanno nera Perché la Finlandia C'ha 34% Già all'epoca Aveva 34% Di deputate Donna C'aveva il ministro Di professori ordinari Donna Era identica E rientrava In quella media europea Che loro hanno mostrato Quindi significa Che dentro l'accademia C'è e opera Una discriminazione specifica Che ha a che fare Col potere Altri commenti Perché siamo Abbiamo due minuti Volendo Ho menzionato Un caso Che conosciamo bene Di questo nostro docente Che effettivamente Era decisamente Sopra le righe In tutte le sue Commenti Verso le ragazze E devo dire Che non sei mai più Ripetuto Per fortuna Un caso simile Cioè tutti sapevano Non potevano fare niente Non potevano licenziarlo Nessuno ha fatto niente Però per fortuna È andato in pensione E nessuno più Si è ripetuto Per il dottorato In realtà Da noi Milano statale Ci sono stati Due cicli consecutivi Esclusivamente Di ragazze Che facevano il dottorato In geologia Tanto ero Che la commissione D'esame finale Ha detto Forse dovreste Istituire una quota Azzurra Perché erano tutte Un anno Otto su otto L'anno dopo Sette su sette Tutte ragazze Non lo so Da noi ce ne sono tante Soprattutto a livello Di dottore Io ho fatto il coordinatore Dottorato Fino a ottobre Del 2018 Allora Attualmente Noi abbiamo Quattro su quattro Assegniste Postdoc Tutte femmine Non lo so Se Allora Ci sono delle aree Tipicamente La paleontologia Per qualche motivo Non lo so In Italia Sono più donne Che uomini Però Sono veramente Tante A livello di lavoro Verso l'esterno Io avevo fatto Vi racconto un aneddoto Che però Per fortuna È superato Appena laureata Sono andata a fare Un colloquio All'ENI Allora si chiamava Agip Avevano bisogno Esattamente Un neolaureato Che Con l'esperienza Che avevo fatto io Di datazione Diciamo Di rocce Però La Psicologa Del personale Nel colloquio Mi ha detto Guardi Però Lei non verrà mai Assunta Per questo Ruolo Perché Perché Il neossunto Deve andare In piattaforma In adriatico E quindi Perché sono stata Nel deserto In mezzo al mare Da per tutto Quindi non Vedo il problema Il problema Era il secolo Scorso Ma non proprio Secoli fa Testualmente Ma ha detto Perché in piattaforma Le docce Sono aperte E quindi Una donna Non può stare In piattaforma Perché farebbe La doccia Davanti a tutti Gli altri uomini E appunto Senza nessun Tipo Io ridendo Penso che Comprare una tenda Da mettere Di plastica Non sia proprio Un grande investimento Poi vabbè In realtà Non mi hanno assunto Poi mi avrebbero assunto Per fare tutt'altra cosa Ma io Nel frattempo Ho iniziato Il dottorato Di ricerca Però devo dire Che Mie compagne Di corso Meglio Con un paio Di anni Di differenza In meno Non solo Sono state Assunte In varie compagnie Petrolifere Ma hanno raggiunto Livelli Manageriali Di altissimo Rilievo Quindi Ok Sono le 17 02 03 Possiamo chiudere Allora Io ringrazio tutti Ringrazio voi Per essere stati Ad ascoltare Per le domande Grazie a tutti Ancora Prima di andare Perché Adesso ci saranno Le premiazioni Dei poster Dei dottorandi E Qua Qua Se arrivano Sì Quindi vi chiedo Ancora di aspettare Per insomma Come dire Festeggiare insieme I premiati Dei poster E poi vi ricordo Che ci sarà Un concerto Seguito Da un aperitivo Sì Allora Io richiamerei L'attenzione Di tutti Perché Intanto È un momento Importantissimo Per i nostri Dottorandi Perché poi Abbiamo il concerto Abbiamo l'aperitivo Abbiamo la chiusura Quindi cerchiamo Di essere Nel rispetto Dei tempi Allora Allora Grazie Allora Allora Ho il piacere Di Semplicemente Passare Il microfono Alla professoressa Giovanna Mazzoleni Che si organizza Esatto Che è il direttore Del centro Mistral Che è il centro universitario Interdipartimentale Di ricerca Modelli integrati Di studio Per la tutela Della salute E la prevenzione Negli ambienti Di vita E di lavoro Dell'università Di Brescia E Giovanna Mazzoleni Col centro Mistral Ha voluto Diciamo Partecipare A questo A questo evento Women in Science E all'organizzazione Dell'evento Tramite il conferimento Dei premi Quindi messi a disposizione Dal centro Per cui io lascio La parola a lei Per questo momento Importante Grazie Ecco Io ringrazio La dottoressa Urani E tutto il comitato Organizzatore Di questo evento Per averci consentito Di partecipare E per averci Voluto coinvolgere Con la valutazione E poi il conferimento Di questi premi Che sono stati attribuiti Al miglior poster Del dottorandi Del primo, secondo E del terzo anno Volevo dire Due parole Di introduzione La commissione Si è riunita I poster Sono stati presentati C'erano cinque minuti Da parte degli studenti Per presentare Ciascun poster Vi devo dire Innanzitutto Che è stato Veramente Molto difficile Operare una scelta Perché Tutti gli studenti Che hanno presentato Il loro lavoro Sono apparsi Molto bravi Motivati Tutti i membri Della commissione Hanno percepito E anche apprezzato Sia l'impegno Con il quale Il lavoro è stato svolto Che l'entusiasmo Che derivava Dalla modalità Della presentazione E quindi Devo Veramente a nome Di tutta la commissione Esprimere Le mie congratulazioni A tutti Questi studenti Per la loro professionalità E per la competenza Che è stata dimostrata Veramente A tutti E ci sono Le congratulazioni Di tutti i membri Della commissione L'altra cosa Che volevo dire Era che Abbiamo usato Per Perché Bisognava In qualche modo Venire a capo Di una valutazione E quindi Cercare di scegliere Il poster Da premiare Abbiamo utilizzato I seguenti criteri La chiarezza espositiva E il rispetto Dei cinque minuti Di tempo Grosso modo Per la presentazione L'accuratezza Della presentazione E anche L'adeguatezza Della rappresentazione Iconografica In ciascun poster L'efficacia Della modalità Complessiva Di illustrazione Del lavoro Quindi verbale E iconografica La coerenza E la finalizzazione Dei messaggi E da ultimo Anche la capacità Che ciascuno studente Ha avuto Di coinvolgere L'interlocutore E quindi Sulla base Di questi criteri Che ho appena enunciato Comincio A Con il vincitore Del primo anno Di dottorato Che è Ilaria Pigazzini Allora Due parole Mi lasciate organizzare Perché è stato un po' complesso Fare tutto Velocissimamente Allora Ilaria ha presentato Un poster Dal titolo ARCAN Automatic Architecture Analysis Of Software La motivazione Di questa scelta È stata Il soddisfacimento Innanzitutto Di tutti i criteri In particolare La commissione ha apprezzato La chiarezza E l'efficacia espositiva Di un argomento Così articolato E veramente complesso E quindi Tutti i criteri Che ho enunciato E la capacità Di renderlo comprensibile A noi Che assolutamente Eravamo digiuni Dall'argomento Tante 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 Congratulazioni Da parte di tutta La commissione Veramente brava Siccome vi ho detto Che era stato Veramente difficile Soprattutto Per la numerosità Degli studenti Del primo anno Che hanno presentato I lavori È stato veramente Difficile scegliere Quindi Mi sento E a nome di tutta La commissione Darei Abbiamo scelto Altri tre Poster A cui va Una menzione Di merito E sono I poster Di Datemi un attimo E per dire I titoli Allora Sono i poster Di Mario Marini Il suo poster Il suo poster La super resolution Photo activated Thermography Poi Roberta Perico Che ci ha presentato Che ci ha presentato Un poster dal titolo Interaction Between Groundwater And River In Suburban Areas E il terzo Maria Edvige Ravasio Che ci ha affascinato Con il suo poster GRB 190114C From prompt To afterglow Punto di domanda Che non l'ho pronunciato bene Veramente tante tante Congratulazioni a tutti voi Del primo anno Per quanto riguarda il secondo anno La commissione ha scelto Il lavoro di Chiara Crippa Il cui titolo è Advanced Analysis of Slow Slope Deformation Phenomena By mean of Insert Structural Analysis And Numerical Modeling La motivazione È In particolare Chiara ha mostrato Un'ottima capacità di comunicazione Chiarezza espositiva Molto efficace Soprattutto in relazione Alle diverse sezioni Della presentazione E poi Capacità di collegamento Fra approccio teorico E analisi sul campo È stato apprezzato Anche la presenza Della bibliografia citata All'interno del poster E del lavoro Ecco questo è Il Da ultimo per quanto riguarda il terzo anno La vincitrice è Monica Oldani Tante congratulazioni Ecco La motivazione Il titolo del suo lavoro è Implementing the cell transformation assay Mechanistic studies in Candium induced Carcinogenesis E la motivazione E la motivazione È che il lavoro presentato da Monica È risultato Migliore rispetto agli altri Per i seguenti aspetti Chiarezza espositiva È stata apprezzata in particolare La semplicità È risultato Percepibile Dai commissari La grande competenza Scientifica Della candidata È stata apprezzata L'impostazione Del poster La ricchezza Di contenuti E La L'organizzazione Grafica Del poster Anche in questo caso Sono stati apprezzati È stata apprezzata La presenza Di un buon numero Di riferimenti Bibliografici Molte congratulazioni Anche in questo Caso Per quanto riguarda I dottorandi Del terzo anno La commissione Ha ritenuto Di Conferire una menzione Al lavoro Di Martina Patelli Zooplankton Population Dynamics And Pelagic Food webs In The deepest Subalpine Lakes Related to Antropogenic Pressure And Climate Change Ecco Molte congratulazioni Anche a Martina E Ancora io ringrazio Tutti voi Ringrazio L'entusiasmo Con il quale Questi giovani Hanno presentato I loro lavori Che è stato Che è stato Una Ottima Inezione Anche per noi Di Incoraggiamento Per il futuro Intanto ringrazio La professoressa Mazzoleni Ora Scusate La mia origine Genovese Però vorrei Precisare che il premio Consiste in 500 euro Per ciascun premio Quindi abbastanza Consistente Quindi ringrazio Il centro di ricerca Mistral La professoressa Mazzoleni E Anche un'altra cosa Che volevamo specificare Che la commissione Eccetto la professoressa Mazzoleni È stata fatta da Scienziate umane Ok Quindi Docenti di sociologia Una ex insegnante Che collabora Con le docenti Di scienze Della formazione E un giornalista Della fondazione Pesenti Che è anche Il segretario Generale Della fondazione E ha un corso In università Bocconi Un corso di comunicazione Proprio Quindi era Era Indicato Come Per i criteri Di valutazione Quindi Diciamo Senza bias Giusto che abbiamo Parlato di bias Di condizionamenti Per due giorni E Vabbè Io vorrei concludere Vabbè Devo fare i ringraziamenti Perché Sono d'obbligo Visto che parlo lentamente Mi sono scritta Delle cose Così le leggo E Diciamo Non Vi tolgo Ulteriore tempo Già che Siete riusciti A resistere Fino Alla fine E vi ringrazio Già da subito Per questo Allora Come aveva annunciato Silvia all'inizio Dell'evento Del workshop Ieri Qualche anno fa Io avevo seguito Un seminario In Bicocca Su un progetto Cost Di fisica teorica E sulle sue iniziative In ambito Gender Che era stato tenuto Appunto Da Silvia Penati Che è professoressa Qui in Bicocca Di fisica teorica Ero rimasta Molto colpita Dalla sua presentazione Questo pensiero Aveva germogliato Nella mia testa Fino a quando L'anno scorso Poi l'ho contattata E lei non mi conosceva Neanche Ricordandole Quell'episodio Per chiederle Di darmi una mano A lanciare un evento Simile nel nostro Ateneo Quindi questo Per far capire Che chiunque di noi Ma Dai più piccoli Ai più grandi A volte Non ha la percezione Di se stesso Visto dall'esterno E chiunque di noi Può magari colpire Qualcuno Che non ci conosce Neanche E può fare A tutti i livelli Svolgere Un Un role Model Ok Maschi e femmine Qui indipendentemente Da genere Quindi Personalmente Il primo ringraziamento Va a Silvia Che mi ha supportata Sin dall'inizio E un altro ringraziamento Personale E di cuore Va poi Alle altre colleghe Di scienze Che hanno Aderito con entusiasmo A questa iniziativa Che in ordine Alfabetico Sono Simona Binetti Paola Coccetti Paola Fusi Gabriella Kun Sara Manzoni E Chiara Urani A cui chiedo Di fare un applauso Poi un altro ringraziamento Particolare Va ad altre due Partecipanti Del comitato Organizzatore Che sono Carmen Leccardi Ed Elisabetta Ruspini Entrambe Professoresse In sociologia Che Devo dire Ci hanno aperto A noi Di scienze Un mondo Appunto Sulle questioni Di genere E sono state Fondamentali Per rendere possibile E concreto Il dialogo E il confronto Tra l'area Delle scienze dure E quella Delle scienze umane Che apparentemente Nel nostro campus Sembra diciamo Divisa da una barriera Invisibile Che in realtà Noi abbiamo Non dico sfondato Perché forse Un po' troppo forte Superato Comunque Organizzando insieme Questo evento Ringraziamenti istituzionali Assolutamente Ringraziamo Il rettore O la rettrice Del nostro E l'Ateneo La scuola di dottorato Di Milano Bicocca La scuola di scienze Di Milano Bicocca I direttori E le direttrici Dei dipartimenti Di scienze Di Milano Bicocca L'istituto nazionale Di fisica nucleare Il piano lauree scientifiche Il centro interdipartimentale Mistral Il centro interdipartimentale Per gli studi di genere ABCD Il centro di ricerca Interuniversitario Culture di genere La biblioteca di Ateneo E curiosamente E la fondazione Pesenti Poi Ringraziamenti particolari Allora Il primo sicuramente Va la dottoressa Stefania Milani Che è È stata veramente Un aiuto preziosissimo Per il coordinamento E la gestione Di tutto il lavoro Che è stato fatto Diciamo Dietro le quinte Per l'organizzazione Di questo evento E il settore Orientamento Comunicazione Eventi La redazione Grafica La redazione Web Il settore Stampa Rapporti con i media Tutti i tecnici Dei servizi multimediali I tecnici Che ci hanno assistito In Aula Magna E qui In Luisa La Sironi Barbara Veronesi Tutto il settore Servizi Supporto Agli eventi Il centro Servizi di scienze Donatella Aita Che è stata fondamentale Appunto Per i rimborsi Eccetera Tutte le speakers I partecipanti Alle due tavole rotonde Che sono venuti A presentare A titolo gratuito Le colleghe Del personale tecnico Che sono di scienze Che hanno Insomma Hanno fatto L'intervento Oggi I due moderatori La professoressa Carmela Eccardi E il professor Danilo Porro Che hanno sostenuto Con entusiasmo Questa iniziativa Tutti i dottorandi E le dottorande Che hanno partecipato Con la presentazione Del loro poster Ai quali È dedicato Il concerto Che segue E l'aperitivo Le ragazze Del Pantarei Che Insomma Si sono fatte Veramente in quattro Per darci da mangiare Per la loro pazienza E poi Ultimi Ma non ultimi Un calorosissimo Ringraziamento A tutti i colleghi E le colleghe Che sono venuti Anche a spot Però Sono stati presenti Entrambe le giornate E soprattutto Agli studenti Che voi siete Il nostro futuro Appunto Questa è una cosa Che è emersa Da entrambe le giornate Per cui Speriamo Come dire Più che di aver lasciato Un segno Preferirei dire Di aver tracciato Un solco Che riusciremo Tutti a percorrere E soprattutto Voi che siete Le nuove generazioni Per cui Vi ringrazio Grazie 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 a tutti